Buonasera, allora, gli obiettivi principali sono due. Il primo è quello istituzionale, diamo una spolverata alla materia, per chi di voi è digiuno, diciamo è un primo boccone che deve essere il meno amaro possibile, perché la materia è abbastanza arida, per cui cerchiamo di renderla diciamo vivibile. E il primo obiettivo è appunto quello di, come dire, prendere coscienza del fatto che la riservatezza a scuola non è poi così drammatica come sembra. Ci sono aspetti a cui fare attenzione, ce ne sono altri, tutto sommato, diciamo, che possono restare sullo sfondo. Parleremo di tutto quello che vi aspettate, almeno lo spero, in punto di riservatezza. Parleremo del cellulare a scuola, delle recite, del ricevimento dei genitori, con chi posso parlare, come funzionano i social network, come funziona il sito, posso prendere le email dei ragazzi e mandargli i compiti. Questi sono gli aspetti di fondo. Il secondo obiettivo, come sempre in questi casi, è terminare che siamo ancora tutti svegli, perché, insomma, il momento dell'anno, il momento della settimana, il momento della giornata non concorrono, diciamo, a una gestione del tutto agevole della materia. Ci proviamo. All'inizio ci sono 15 minuti mortali. Perdonatemi, ma è così. Ogni capriola che io possa fare in tema di, come dire, coinvolgimento della platea si scontra col fatto che inevitabilmente, quando si parla di diritto, si inizia parlando delle definizioni e le definizioni in materia di privacy non sono così divertenti. Per cui, insomma, fate voi, ecco, nella prima parte. Vi assicuro che dopo migliora, almeno lo spero. Che la riservatezza sia spesso vittima di clamorosi equivoci è, diciamo, storia recente. Abbiamo una casistica di informativa da parte della stampa di presunti disastri avvenuti sempre all'interno della pubblica amministrazione, sempre per colpa di uno che ha mancato per un dettaglio di osservare la normativa e da quel dettaglio sono discese, conseguenze disastrose. In realtà, una volta che uno va a vedere i casi specifici, non è proprio così. È vero, ci sono stati degli scivoloni anche notevoli in tema di riservatezza. C'è stato, dopo io parlerò di diverse casistiche, ma così per accennare, per darvi qualche spunto, c'è stato tempo fa, il caso era a Cremona, quindi nemmeno troppo lontano adesso che ci penso, il caso di quei tabelloni degli esiti scolastici pubblicati da una scuola di Cremona in cui di fianco al nominativo di alcuni ragazzi campeggiava una vistosa H rossa che rimandava ad una nota in calce che diceva, ovviamente, all'uno valutato, ai sensi del... Lì per lì successe un cataclismo, sembrava che questo... Ok, peccato perché io sono peripatetico di natura nella gestione delle chiacchierate. Ci provo, faccio il mio meglio. Dicevo, casi come quello in cui sembrava che quel dirigente dovesse finire in galera, poi non è andata così, ci sono stati casi legati alla gestione dei siti web in cui si è tanto parlato, anche ultimamente, dei data breach generati, comunicati al garante della privacy dopo che un docente aveva inavvertitamente condiviso una nota disciplinare sul registro elettronico non visibile al singolo ma visibile all'intera classe e lì dipende da che software state usando. E insomma, il comunicato è sempre roboante, parla sempre di disastri, poi uno va a vedere il disciplinare non c'è, la causa del risarcimento non è arrivata, non è chiaro chi sia responsabile. Mettiamo qualche mattone, cerchiamo di capirci, perché questa è una materia tutto sommato semplice, ma dopo la valanga dell'obbligo vaccinale, in cui come immaginate abbiamo discusso soprattutto di riservatezza, abbiamo perlomeno avuto l'occasione di rimettere un po' i paletti. Il regolamento, se qualcuno, quello a cui faceva accenno il preside, quello entrato in vigore a maggio, e lo chiamo semplicemente il regolamento perché invece quando parla stravolto completamente, le linee guida sulla riservatezza. Una buona parte di quello che sapete del passato vale ancora oggi. Ci sono delle piccole differenze che adesso vediamo. C'è un punto di fondo che è affrontato nel secondo di questi bullet point, che secondo me tutto sommato ci dà una mano. In tema di riservatezza c'è una distinzione di fondo che viene, non sempre, ma spesso fatta nel modo sbagliato. Un conto è il consenso, un conto è l'informativa. Si usano in modo fungibile queste due parole, sono due cose diverse, è sbagliato. Il consenso, voi ne avete firmati nella vostra vita, tirando ad indovinare, decine. Quante volte avete firmato un consenso privacy? Ma avete una tessera punti di un supermercato? Avete un numero di cellulare? Avete una bolletta di un servizio pubblico? Avete qualunque cosa. Domanda tradotta in diritto. Avete consentito ad un, attenzione, privato? Avete consentito ad un privato di gestire i vostri dati? Allora dovete aver espresso un consenso. Perché senza il consenso il privato non ha il diritto di trattare i vostri dati. E quindi è anche una cosa semplice, sciocca, come la tessera punti di un supermercato richiede che voi o spuntiate quella casellina o mettiate una sigla in calce. Senza. Il trattamento dei dati ad opera del privato non è consentito. Un conto è il consenso. Un conto è l'informativa. La domanda di fondo è, di solito, ma la scuola, l'amministrazione scuola, quando tratta i dati del numero così ampio di soggetti che viene in contatto con l'istituzione scolastica? Perché se ci pensate, alunni, famiglie, i fornitori, gli esperti, altre amministrazioni, la scuola insieme alla sanità è probabilmente l'amministrazione che tratta il numero di dati più alto. Domanda. La scuola ha bisogno di consenso? Quando tratta i dati di queste persone? La risposta è no. Poi c'è una virgola di fianco a quel no, perché i giuristi piace fare delle precisazioni. La risposta è la scuola non ha bisogno di consenso, virgola, finché si comporta da scuola. Credetemi, non vi voglio portare a spasso, ma fra poco sarà chiaro. Vi faccio un esempio più del quotidiano. Quando andate in comune a farvi rilasciare un documento di identità, rilasciate un consenso al comune? No. Perché? Perché il comune sta facendo il comune in quel momento, più precisamente, sta perseguendo la propria funzione istituzionale. Fra le funzioni istituzionali del comune c'è il rilascio dei documenti di identità. Bene. Quali sono le funzioni istituzionali della scuola? Qui potremmo passarci la giornata. Diciamo, istruzione, educazione, c'è anche chi dice collocamento professionale, questo è un argomento molto, molto faticoso, molto spinoso, ma finché la scuola si comporta da istituzione pubblica che rilascia questo tipo di servizi, il problema non c'è. Ricordiamo questa regola che dopo ci verrà utile. Per quanto vi riguarda, come docenti, le regole sul trattamento dei dati e sulla riservatezza hanno riflessi, sia, diciamo, oggettivi che soggettivi, nel senso che voi trattate come docenti i dati dei soggetti che vengono a contatto con voi, gli alunni, le famiglie principalmente, i soggetti satellitari alle famiglie, perché poi questa è una parte del problema. Noi dopo affronteremo il problema di con chi posso parlare. Con la mamma sì, col babbo sì. L'altro giorno, con i genitori del fidanzato. Caspita, insomma, è un legame che non è facile da costruire a livello giuridico, ma non so cosa sia capitato a voi. In tutta la penisola queste cose capitano. Posso condividere un dato di natura personale come il rendimento dell'alunno con un soggetto che ha un legame così flebile, possiamo dirlo, forse sì, insomma, così sottile con l'alunno? La risposta è in teoria no, a meno che chi deve prendere quella decisione non sia concorde nel ritenere che si può fare. E dopo vedremo che è i genitori, quando ci sono, che spetta questa scelta. Anzi, quando ci sono e quando sono dotati del potere di decidere. Perché, come forse vi è capitato, non ve lo auguro perché è una situazione spinosa, i genitori possono perdere il potere di decidere a seguito di fatti molto faticosi. C'è da parte della stampa, sempre in termini introduttivi, una maggiore attenzione al mondo delle scuole che viene inevitabilmente dalla questione dell'obbligo vaccinale. Ma che poi ha travolto tutta la pletora di informazioni di cui parliamo normalmente in ambito scuola ogni volta che si solleva una nuova questione. Vi ricordate? Un anno fa abbiamo passato, un anno erotti fa, abbiamo passato tanto tempo a discutere dell'uscita da scuola. Abbiamo passato tre mesi a discutere di una questione che, onestamente, non richiedeva poi chissà quale approfondimento. Vi ricordate qual era il problema? Il problema è, come docenti dell'ultima ora, un argomento che vi deve interessare, dobbiamo consegnarli a qualcuno o li lasciamo andare? Era un dettaglio, adesso magari la natura dell'istituzione scolastica induce di meno a questi pensieri, ma chi lavora in una scuola media questo problema se l'è posto eccome. In particolare è avvenuto, in un diagramma di Venn sarebbero condizioni del tutto peculiari, cioè pensate a piccole cittadine, io non ho idea di quanto sia grande Iseo, perdonatemi, io sono di Bologna, piccole cittadine in cui da sempre i ragazzi che sono della zona non sono abituati a farsi venire a prendere, perché magari hanno poche centinaia di metri da percorrere prima di arrivare a casa, in un contesto tutto sommato familiare come quello del paese e appunto quella fascia di età. Abbiamo passato quattro mesi a discutere di questa storia. Quando invece, cos'è che era successo lì? Qualcuno l'ha letta quella sentenza? Perché vedete, tutti ne abbiamo parlato, ma pochissimi hanno letto, peraltro 30 pagine di faticosissima lettura, perché poi la Corte di Cassazione quando si lascia andare, lei l'ha letta. No. Prego, è la benvenuta. Il fatto che è la vicenda che ci resta più facilmente impressa nella memoria è questo. Allora perché abbiamo tirato a giudizio il dirigente e il docente dell'ultima ora? Qual era il problema? Sì, certo, ma abbiamo questo obbligo? Perché la legge si è tanto preoccupata dopo di spiegarcelo, ma il punto è, vedete, in quella vicenda la questione di riservatezza ha talmente blindato l'argomento che non è uscito l'unico dato importante. L'unico dato importante era, in quel regolamento di consiglio d'istituto, scusate, in quel regolamento d'istituto, c'era scritto chiaramente che la scuola si impegnava ad accompagnare i ragazzi alla fermata. Ma quanti ne avete letti di regolamenti così? Io solo quello. Io giro 50 scuole l'anno. Io ho letto solo quello. Ma non era importante questo dato, non era l'unica cosa importante. Non poteva invece che sollevare quel polverone far notare che tutto sommato era un regolamento molto temerario ad imporre quel tipo di obbligazione. E infatti noi giuristi abbiamo commentato la sentenza dicendo beh, niente di nuovo. La scuola si è impegnata ad un'obbligazione a cui ha mancato. Bastava non impegnarsi. Questo è il punto. È tutto qua. Ma era talmente blindata la pletora di quelle informazioni che per mesi non l'abbiamo potuta leggere. Poi dopo, piano piano, le cose si sono allentate. Quindi siamo in effetti sotto l'occhio di una lente che è inutilmente opaca. Allora, vediamo di fare ordine. La regola d'oro è, come spesso capita in diritto, una regola generale d'astratta. Ci si deve accontentare. Ma è la natura delle leggi quella di essere generali d'astratte. La regola d'oro è il cosiddetto principio di necessità. La domanda che ciascuno di voi, se vuole, diciamo, approcciarsi in modo utile, a mio avviso, alla materia, quando si tratta di riservatezza è è necessario che io tratti questo dato. Esempio. Rifezione scolastica. Un ragazzo ha un'allergia potenzialmente, senza scomodare cose disastrose, un'allergia alimentare. Ma qualcuno lo dovrà sapere, vi pare? Perché per quanto segreto il dato, per quanto di natura, com'è che si dice? È un dato? Certo. Per quanto di natura sensibile il dato, ma ci sarà qualcuno che lo dovrà sapere. Perché altrimenti rischiamo di tutelare la riservatezza del ragazzo, ma di mandarlo in ospedale. Solo per averne tutelato la riservatezza. La regola qual è? Quella. Principio di necessità. Qualcuno lo deve sapere. E quel qualcuno è necessario che lo sappia. Quindi chi? Non troveremo una tabella con su scritto che c'è il docente coordinatore, il docente referente, il docente che se ne occupa all'ultima ora, quello che lo accompagna in mensa. No. Troveremo una regola generale da strata che dice che quando l'amministrazione scolastica in persona della dirigenza riceve questo dato, deve poi condividerlo, questo dato, con chi? Con chi è necessario che lo sappia. Il principio di necessità è inevitabilmente astratto. Però se ci chiediamo questo, il 99% dei problemi di riservatezza si risolvono da soli. E' necessario? Pensate all'esempio che vi ho fatto prima. I tabelloni. Quella H era necessaria? era impensabile credere di stare assolvendo una funzione istituzionale con quella H. Tant'è vero che dopo, ma dopo, tardi, è arrivata la regoletta. Cos'è che dice la regoletta? Che nei tabelloni non ci va. Però dopo può andare nelle certificazioni. Ma certo. Perché quando l'amministrazione poi rilascia un certificato confessa questo tipo di dato. E nella certificazione compare. Ma in sede di che cos'è che facciamo quando mettiamo i tabelloni? E' una pubblicazione. Perfetto. Che in termini di riservatezza si dice diffusione. Quando lo diciamo a tutti, ma è necessario, veramente. Non è necessario. Cosa stiamo facendo? Stiamo perseguendo una funzione istituzionale che è quella di pubblicare gli esiti. Bene. Quindi di cosa abbiamo bisogno? Perdonatemi, sono noioso. Cosa è necessario pubblicare? Nome? Cognome? Classe? Esito. Poi, come sapete, l'opinione del Ministero sui voti dei non ammessi oscilla parecchio. Insomma, a volte l'amministrazione cambia spesso idea su questo. Però, il punto è quello. Quella H non era necessaria in nessun modo. Non stavamo realizzando nessuna funzione. Non veniva niente di buono. Niente di, diciamo, legato alla funzione istituzionale. Bene. Qualcuno di voi è in grado di darmi la differenza fra necessità e indispensabilità? Io no. Per cui, se c'è qualcuno, è il benvenuto. Il codice distingue il principio di necessità applicabile ai dati comuni, il principio di indispensabilità ai dati sensibili. Adesso ci spieghiamo. Io non sono in grado di darvi una distinzione e anche i commentatori della legge ci hanno detto che si tratta solo di parole diciamo diversamente gradate per dire la stessa cosa. Allora facciamo la distinzione dei dati. perché ci riempiamo spesso la bocca fra sensibili, giudiziari, ipersensibili, ultrasensibili. La stampa esagera a volte. In realtà le etichette sono tre. Comuni, sensibili, giudiziari. La regola è che se un dato non è sensibile o giudiziario è un dato comune. Ok? Allora, i dati sensibili quali sono? Perché lo sapete già, non avete bisogno di me. Quali sono i dati sensibili? Dati anagrafici? No. Sì, certo. La salute è il, come dire, tutti i dati che confessano lo stato di salute, bene o male, sono quelli più tipicamente riconducibili. Che altro? Credo religioso, certo. Orientamento sessuale, corretto. Poi? Come? Sì, abbiamo passato undici anni in corte di Cassazione a decidere se la foto di un tizio con una testata giornalistica sotto mano, quindi riconducibile bene o male ad un orientamento politico, fosse o meno un dato sensibile. Alla fine, per fortuna, abbiamo deciso di no. Abbiamo quasi finito, perché poi ci sono magari l'appartenenza a sigle sindacali che, come sapete, dopo il DPR 62 ha avuto, diciamo, una sua collocazione nel novero di dati che il dipendente pubblico deve rendere all'amministrazione, ma basta. Salute, orientamento sessuale, appartenenza razziale, etnica, credo religioso, e poi, come sapete, queste cose poi si pestano i piedi spesso, perché può capitare che un dato sensibile abbia in realtà un significato diverso da quello che immediatamente confessa. Come sapete, l'appartenenza ad un credo religioso può da sola confessare abitudini alimentari, per esempio, che possono avere riflessi a livello di salute e via così, è un attimo. Questi sono dati sensibili, sono dati che anche intimamente, perdonatemi, a cui anche intimamente diamo un significato di delicatezza del tutto peculiare, sono dati che non confessiamo volentieri, che appartengono ad una dimensione intima. Questi sono quelli sensibili. Poi ci sono i giudiziari, credo di avere, sì. Cosa sono i dati giudiziari? Sono quelli che raccontano la storia giudiziaria di qualcuno. In genere, ecco appunto, in genere ricolleghiamo questo tipo di dati alle questioni di carattere penale. È inevitabile. Quindi condanne, carichi pendenti, indagini aperte e via così. Ma in realtà c'è di più. Avete saputo che un vostro collega si sta separando? Quello è diritto civile, eppure è un dato giudiziario. Avete saputo che ha impugnato un concorso pubblico per l'attribuzione di un posto? Quello è diritto amministrativo. È un dato giudiziario. Ha una cartella di Equitalia? Tributario. È un dato giudiziario. E via così. Se appartiene alla dimensione del tribunale si tratta di un dato che va, diciamo, custodito con la maggiore delicatezza possibile. Allora, andiamo per sottrazione. Qui ci sono i giudiziari. Qui ci sono i dati sensibili. Origine razziale ed etnica. Adesso li decliniamo sulla scuola. convenzioni religiose, stato di salute, convenzioni politiche. Tutto il resto sono dati comuni. Quindi, ecco, anagrafica, il numero di cellulare, il numero del conto in banca. Sono tutti i dati a cui, caspita, ne diamo, vero, di importanza. L'indirizzo email, lo username di un particolare software e via così. Tutti i dati a cui diamo importanza, ma il punto è i dati sensibili sono, si dice, tipici. Cioè, sono un elenco chiuso. I dati giudiziari anche. Tutto il resto sono dati comuni. Quindi, in realtà, il regime di protezione di questi dati è molto diverso. Sarà il caso che ci faccia attenzione. Decliniamoli nel mondo della scuola, ma è un elenco ovviamente aperto. Origine razziale ed etnica, ci sono i dati sull'integrazione. Convinzioni religiose, la fruizione o meno dell'insegnamento della religione cattolica e la libertà di culto, ma come abbiamo detto prima, anche ai fini della riflessione. Per chi di voi ha questa croce, perché è questione faticosissima. Lo stato di salute, ma ce n'è finché volete. Disabilità, DSA, insegnamento domiciliare ed ospedaliero. Abbiamo passato io credo più di cinque anni a stabilire un protocollo di riservatezza per aprire un canale Skype per far seguire ad un ragazzo in ospedale le lezioni della sua classe, perché non voleva la scuola in ospedale. Voleva seguire attraverso una webcam le lezioni in classe. È stato sanguinoso sotto tutti i profili, ma alla fine ne abbiamo cavati i piedi. valeva la pena tutelare tutti gli aspetti della riservatezza. In fondo mandiamo un segnale come si dice nell'etere e lì ci sono le immagini del docente che poteva non avere piacere di farsi riprendere. Degli altri compagni, del personale che poteva entrare e via così. Le questioni di riservatezza sono apparentemente giganti, però poi fatto correttamente e quindi dopo vedremo a tramite una corretta informativa queste cose si risolvono. Una volta esaminati tutti i dati comuni, scusate, tutti i dati sensibili e tutti i dati giudiziari abbiamo per sottrazione tutto il resto. Dati comuni. Sono dati che non sono né sensibili né giudiziari. La scuola per trattare questi dati non ha bisogno di consenso. Capita però, no? Pensate, adesso questa è una scuola superiore ma a me capita, vi capiterà magari come genitori. Mio figlio ha due anni va al nido. Le maestre hanno scelto di realizzare un cd con tutte le foto e le riprese e alla fine il cd è stato passato ai genitori a fine anno. Mi sono ritrovato un modulo di consenso al trattamento dei dati personali che sembrava la fusione dell'ENI. Quattro pagine di clausole in cui insomma si diceva che io liberavo la scuola da ogni tipo di responsabilità. Ma per carità ognuno fa come crede però il consenso per quel tipo di funzione non serviva. La scuola stava facendo la scuola. Si stava occupando dell'istruzione dell'educazione di mio figlio. Quando ritrae l'immagine di mio figlio e la consegna poi in un contesto controllato come quello di chi ha la potestà scusate la responsabilità genitoriale sul minore il problema non si pone. Dopo vedremo anche le singole ipotesi trattate dal garante perché sapete che c'è il garante di mezzo il garante privacy è il soggetto che prende questo tipo di decisioni. Le vedremo per le recite le vedremo per le manifestazioni sportive le vedremo per le gite per ogni tipo di questione che involve la riservatezza e bene o male cadiamo sempre nello stesso punto. Abbiamo applicato la necessità? Sì. Il consenso non serviva nemmeno dall'inizio. Poi questa in realtà è la parte mortale portate pazienza. Cinque definizioni faccio presto. Trattamento trattamento è qualunque operazione posta in essere sui dati state scrivendo nel registro è un trattamento state prendendo un appunto di un nominativo è un trattamento state cancellando da un registro è un trattamento l'interessato è la persona fisica lì c'è un errore quando vi lascio la slide poi ve lo ve lo correggo perché in realtà il codice privacy tutela solo le persone fisiche cioè solo tizio caio le persone giuridiche non hanno tutela della riservatezza l'interessato è la persona a cui si riferiscono i dati quindi i dati dell'alunno della famiglia della ditta dell'esperto di un'altra amministrazione il titolare del trattamento dati nella scuola è il DS e non c'è altro adesso porterà pazienza il DS ma le cose stanno così è anche il principale centro di imputazione delle responsabilità connesse nel senso che la qualifica di titolare a prescindere dalla dall'etichetta successiva che sembra invece eloquente che è quella di responsabile la qualifica di titolare porta con sé la maggior parte delle responsabilità legate poi c'è invece l'etichetta di responsabile che è una figura in realtà fino a poco tempo fa eventuale nella compagina scolastica prima del nuovo regolamento lo faceva ma non sempre il DSGA oggi ci sono soggetti esterni come il DPO che ho sentito è già stato nominato e vi ha già fatto formazione che si occupano di questa funzione si tratta in sostanza della funzione di direttore del traffico dei dati della riservatezza nella vostra posizione perdonatemi vi rispondo volentieri ma vi interessa meno perché si tratta di gestire i dati per esempio che vanno sul sito dove metto le foto dove metto l'audio di una serata o il video di una serata collettiva dove c'erano anche i genitori il video della manifestazione sportiva fatta a braccetto con il comune e cose del genere l'incaricato è invece qualunque figura di dipendenti pubblici che si occupa di dati personali quindi ci siete anche voi perché si è parlato prima di lettere di nomina è del tutto ragionevole che in funzione del nuovo regolamento l'amministrazione scuola con questo non intendo il dato gergale degli uffici scolastici ma l'istituzione scolastica vi informi di quali sono i limiti e i poteri legati alla vostra alla funzione docente in tema di riservatezza ok la parte faticosa secondo me ce l'abbiamo alle spalle ora vediamo la casistica questo è il grosso della chiacchierata temi in classe ah mi scusi me l'ha già detto se fosse per me io vabbè pazienza temi in classe l'obiezione è ma no che non si può leggere ad alta voce il tema dell'alunno viola la sua riservatezza io non so come la vediate in realtà è più questa sì che è una leggenda metropolitana la questione è molto semplice ed è assorbita dalla funzione docente qual è la ragione ditemelo voi magari lo sapete meglio di me qual è la ragione per cui si legge un tema al resto della classe ammesso che accada ancora perdonatemi perché è fatto molto bene oppure ma certo cioè di solito si tratta o di un plauso o di una reprimenda insomma di un qualche di un qualche tipo e non ci trovo nulla di strano tutto sommato bene entrambe queste ipotesi sono ovviamente coperte dalla funzione docente cioè il garante però il garante se ne è dovuto occupare con un provvedimento esplicito in cui a seguito dell'obiezione di un comitato genitori ha detto ma no ma non c'è nessuna questione di riservatezza perdonatemi la scuola sta facendo la scuola l'amministrazione scolastica si sta comportando come tale una delle modalità per perseguire la funzione di istruzione ed ed educazione è anche quella di illustrare al resto della classe appunto una delle due ipotesi un tema ben fatto o un tema che insomma necessita di qualche di qualche limatura quindi nessuna questione di riservatezza controbattuta ma ma se nel tema c'è qualcosa di di estremamente riservato poi la fantasia corre alla svelta dopo facciamo presto ad andare a situazioni emergenziali beh ma non c'è bisogno di tirare in mezzo la riservatezza voi siete dipendenti pubblici quindi tenuti al segreto d'ufficio il segreto d'ufficio copre la segretezza delle informazioni che vi sono pervenute per il tramite della vostra funzione quindi se nel tema non stiamo perseguendo la funzione scuola dicendo questo passaggio è particolarmente apprezzabile o quest'altro necessita ma stiamo solo in realtà divulgando informazioni riservate come possono essere dati sensibili o giudiziari siamo noi che abbiamo inciampato per cui la regola di fondo è semplice io ho facoltà di operare questa lettura ma non mi deve scappare qualcosa di delicato perché altrimenti sono comunque tenuto al segreto più semplice ne parlo volentieri con un collega non c'è nessuna violazione della riservatezza siete entrambi titolati a conoscere dei dati personali del ragazzo ma non ne parlo al bar col barista perché manca invece il confine l'alveo la copertura della dimensione scuola ancora voti ed esami è l'esempio che facevamo prima i voti e gli esami sono i voti degli esami gli esiti degli esami soprattutto gli esami di stato sono pubblici perché ci occupiamo di ci preoccupiamo di pubblicarli a cosa serve credetemi a cosa serve in diritto è una buona domanda in generale è pane per la mente a cosa serve la pubblicazione degli esiti è troppo elegante come risposta ha ragione anche anche trasparenza è una buona risposta ma è una risposta da avvocati più semplice sì 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 attenzione sul confronto che diventa scivoloso sì anche serve a consentire che chi sta fuori e un giorno incontra uno dei ragazzi diplomati possa avere un'idea dai voti quindi dalla valutazione finale della caratura almeno a livello di rendimento scolastico del ragazzo cioè la scuola si fa funzione pubblica e dice questo è di altissimo valore questo un po' meno per perseguire questa funzione che perdonatemi magari sembra olimpica sembra di fare chissà cosa ma per perseguire questa funzione torniamo a monte cosa è necessario fare cosa è necessario dire ma dovremmo dire classe nome cognome esiti basta se lì ci entra un numero di cellulare ma non casca la repubblica ma cosa ci sta a fare il numero di cellulare è ovvio che è un'ipotesi fantasiosa ma lo era anche quella H eppure c'è finita e nemmeno troppo lontano da qui qual era il pensiero di quella di quella scuola ci siamo passati sul confronto qual era il pensiero cosa c'era alle spalle di una decisione così sciocca come la H rossa di fianco al nome mettere in evidenza cosa e quindi sì 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 stiamo lambendo la risposta che è più volgare quindi la dico io giustificazione dei voti più alti sì non c'è dubbio certo ma la ragione alle spalle di questo pensiero era devo giustificare la promozione di solito stabile per quanto risicata degli alunni H agli occhi di chi delle famiglie di alunni non H scusate se vi faccio sbattere il naso sulla volgarità dell'argomento ma è questa la questione allora un pensiero come questo ha portato ad una ad uno scivolone così evidente in tema di riservatezza che siamo finiti sul giornale e va bene non non ha niente torto dal tra l'altro questa fu la difesa utilizzata in tribunale che insomma si può far di meglio per difendersi sotto sotto questo profilo pazienza comunicazione di scuola famiglia cari famiglie è accaduto che in data tale i ragazzi si sono si sono picchiati in cortile in particolare il risultato rilevante il ruolo di tizio caio e sempronio che hanno aizzato una fazione dei ragazzi contro un'altra e se le sono date di santa ragione comunicazione in scuola famiglia in tema di bullismo di nuovo necessità cosa stiamo facendo stiamo dando un'informativa debita peraltro se vogliamo essere esatti debita perché le famiglie dovranno sapere chi arriattira in quel cortile stiamo dando una comunicazione in cui si dice è successo questo quindi perdonatemi da qui in poi è un po' istituzionale di solito il tono della scuola quindi dovremo sensibilizzare quindi dovremo chiamare qualcuno a parlarci di quindi dobbiamo invitare tutto il personale ecco qui assume una patina un po' un po' istituzionale però serviva dire che tizio caio e sempronio erano i capopopolo che avevano aizzato la rissa nel cortile non serviva il principio di necessità è stato tradito perché se volevamo nella comunicazione scuola-famiglia dare un'informazione di questo tipo e raccontare che cosa la scuola aveva intenzione di fare per sistemare la questione di certo non serviva puntare il dito contro i protagonisti della vicenda per quanto diciamo evidente sia stato il loro ruolo disabilità e DSA questo è più facile sono dati? lo abbiamo detto prima sensibili ovviamente attengono ad un profilo sanitario anche per i DSA malgrado la debita distinzione disabilità DSA essendo dati dal sapore sanitario sono sempre di natura sensibile la regola generale è ma è ovvio perdonatemi è dello stesso problema alle spalle di quella H mai oggetto di diffusione mai oggetto di pubblicazione questa regola che sembra semplice a volta viene letta in modo talmente dicevamo prima emergenziale spaventato figlio del timore di una normale reazione a questi dati che poi alla fine non ne caviamo i piedi a me è capitato è capitato uno che voleva togliere dalla foto di classe il ragazzo disabile ma questa ancora è il meno in un altro caso mi è capitato uno che voleva togliere dalla foto di classe il ragazzo di colore pensateci un attimo cosa ha pensato questa testa ha pensato è un dato sensibile confessa l'appartenenza razziale mi ci è voluto un po' fargli capire che anche il suo colore della pelle confessava un'appartenenza razziale non ci aveva pensato succede e questo lo dobbiamo mettere in conto però l'importante è questa in realtà può essere sì può essere diciamo un limite personale ma può essere anche figlio di un timore che è portato talmente all'esasperazione da fare scelte poi sciocche può darsi d'accordo ma il problema resta allora anche qui non era questione particolarmente complicata si fanno ancora le foto di classe come? immagino in modo più artigianale di una volta una volta si chiamava il fotografo o si chiama ancora il fotografo bene non è vero in tutta Italia mi fa mi fa piacere che a volte persista l'abitudine abbiamo discusso anche lì un bel po' di tempo sul fatto che il fotografo potesse o meno trattenere i negativi quando c'erano i negativi ovviamente delle fotografie tempo perso per lo più ma c'erano genitori che non volevano che il fotografo trattenesse i negativi per questioni di riservatezza anche lì ci abbiamo messo il suo tempo la corte ha detto ma no ne è uscita nel modo devo dire tecnico perché la corte ha detto è un'opera dell'ingegno la fotografia è un'opera coperta al diritto d'autore quindi il fotografo ne è proprietario quindi ne fa quello che crede in ogni caso però sarà tenuto a non ma certo a non pubblicare a non divulgare a non mettere in pericolo la riservatezza dei soggetti coinvolti non è non è più complicato di così mensa ma la mensa non è sì prego sì 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 può non è diffusione all'esterno tecnicamente si chiama comunicazione sta estendendo il contenuto di quel dato personale ad altri soggetti ugualmente titolati a venirne a conoscenza è la stessa ragione per cui all'interno della dimensione classe non si pone il problema della lettura del tema e tante altre questioni che adesso vedremo trattate nella stessa maniera bene non è questione per carità non è questione negoziabile qui abbiamo spesso uno zaino molto pesante che ci portiamo dietro dal rapporto con i genitori funziona in questo modo ho fatto ho fatto troppo velocemente qui consenso e informativa sono due cose diverse il consenso l'ho detto prima è quello che firmate quando parlate con un privato ma quando voi entrate in un'amministrazione pubblica non firmate i consensi leggete invece di rado perdonatemi vale anche per me leggete invece l'informativa oggi si chiamano informazioni è una specie di manifesto in cui c'è scritto detto qui dentro i tuoi dati personali li trattiamo così due punti e ci sono una serie di trattamenti di dati personali li mettiamo da parte li scriviamo in questi registri li mettiamo in questo computer questi dati vanno al soggetto che ci cura il server poi torna indietro eccetera eccetera di quali ipotesi di trattamento parliamo ma nelle scuole ce ne sono tante le pratiche legate ai procedimenti amministrativi di iscrizione i dati per la formazione delle classi i dati relativi all'accesso agli atti potremmo andare avanti un bel povero quelli della mensa quelli delle gite l'informativa racconta tutte le ipotesi in cui la scuola tratta i dati dei ragazzi il contenuto dell'informativa come diciamo noi giuristi non è negoziabile giuridicamente la differenza questa è questa il consenso è un contratto il contratto è per natura bilaterale tu accetti sì anch'io accordo delle parti quindi abbiamo come dire stretto un vincolo l'informativa non prevede la firma di nessuno a voi sarà capitato di vederla siglare perché come leggeteli di solito si ottiene all'iscrizione o al trasferimento una prova dell'avvenuta produzione quindi capita che il genitore al momento dell'iscrizione la sigli ma in realtà l'informativa va pensata come un manifesto in quel manifesto c'è scritto che i dati sensibili relativi a questa natura del DSA vengono trattati in questo modo sono oggetto di diffusione mai di comunicazione all'interno della classe il genitore nel momento in cui entra a scuola prende atto dell'informativa e l'informativa lo ripeto sono noioso non è negoziabile non c'è nulla che lui possa impegnarci a fare di diverso perché altrimenti fosse negoziabile l'informativa potrebbe essere negoziabile in modo diverso per ciascuno dei soggetti titolari interessati e quindi proprietari dei dati personali e dopo non ne caviamo più i piedi facciamo attenzione a non inseguire troppo le pretese dei vari soggetti che si avvicinano alla scuola questo problema è esploso al momento della questione dell'obbligo vaccinale perché ciascuno aveva la sua idea su come dovevano essere trattati i dati non è così che funziona l'informativa dice caro utente che è una brutta parola utente che significa ogni tipo di soggetto che si avvicina alla scuola ripeto alunni famiglie ditte fornitori eccetera caro utente qui dentro i tuoi dati li trattiamo così se lì c'è l'ipotesi di cui abbiamo appena parlato il genitore non ha potere di costringersi a fare diversamente preso coscienza di questo secondo me tante cose vanno un po' in cavalleria e credetemi in tribunale questo è molto chiaro perché spesso saltano fuori i moduli cancellati oppure con un'interlineatura o con una nota in cui si dice sì accetto tutto però in questo caso in questo caso condizioni eccezioni no 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 sono nulle sono come non apposte l'informativa la scriviamo noi chi entra a scuola lo sa e l'informativa è pubblica per natura quindi è oggetto di la norma dice ancora affissione perché una volta si affiggeva insomma oggi è pubblicata sul sito come naturale che sia insomma d'altra parte abbiamo una norma che ha digitalizzato questo aspetto della pubblica amministrazione però appunto in linea generale e ci servirà ancora dopo non inseguiamo le non volevo dire paturnie ma insomma non inseguiamo le pretese dei vari soggetti che si avvicinano alla scuola ciascuno con un diritto diverso in mente la gestione della riservatezza è una altrimenti non ne caviamo i piedi prego volevo fare una precisazione quanto detto adesso l'avvocato negli ultimi 15-20 minuti è sostanzialmente una delle macro ragioni per cui gli ho chiesto di venire cioè ha toccato e avete toccato con le vostre domande una serie di questioni che io sento spesso in presidenza porre o a me o al vicario e che volevo che avessero una risposta per fortuna coerente con quello che di solito indico che tutti potevano sentire molte volte quando anche facciamo una riunione di staff io invito lo staff a non seguire non chiamiamole le paturnie ma le richieste illogiche e incomprensibili della famiglia perché come avete notato ha fatto notare non è possibile dare più tempo a disposizione una prova differente e la classe non lo viene a sapere è una contraddizione logica fra l'altro che è evidente anche nell'esame di stato perché se nell'esame di stato tu hai un ragazzo DSA che ha bisogno di mezz'ora 20 minuti in più non è che lo fai andare in un'aula diversa si ferma di più per cui un conto è il fatto di non indicare specificamente entrando in classe da parte di insegnante i tre DSA li mettiamo in fondo oppure vengono qui tu sei il disabile o se dico queste cose succedono un conto è invece il fatto che evidentemente tu stai applicando il PDP e allora evidentemente può essere necessario utile spiegare spiegare non giustificare spiego il perché non vado in difesa a mio avviso e questo per me è piuttosto importante una cosa una cosa che a mio avviso poi è abbastanza importante da sottolineare è questo quello del segreto di ufficio e segreto professionale che è stato citato allora lo dico spesso e volentieri però lo ripeto è molto molto a mio avviso delicato ma non sempre applicato questo segreto d'ufficio e questo segreto professionale tradotto se facciamo un consiglio di classe straordinario perché dobbiamo decidere delle sanzioni dei decreti di sospensione di censura a volte per ragioni specifiche dico di non far sapere nulla la classe fin quando viene dal coordinatore consegnato quantomeno però non deve emergere e se lo dico succede che qualcuno va un'ora dopo in consiglio di classe nella classe e dice io mi son battuto perché tu non l'avessi avuto o viceversa io mi son battuto perché tu l'avessi quando abbiamo fatto gli scrutini per gli esami finali degli anni scolastici molti di voi ho delle riserve però va bene perché ci sono altri strumenti molti di voi hanno praticamente facebook con gli studenti allora mi è capitato di sentire il genitore che mi telefonava o telefonava in vicepresidenza perché un docente o una docente finito lo scrutinio aveva detto abbiamo fatto giustizia questo allievo non è stato messo all'esame di stato oppure voglio sentire il parzani perché è lui che mi ha bocciato il figlio e che pensavo è il preside per colpa sua no perché in caso di parità il mio voto vale il doppio ovviamente qualcuno deve averglielo detto quindi io trovo che semmai c'è un problema non so perché non lo so spiegare non riesco a capirlo ma c'è un problema di riservatezza e di difesa del segreto di ufficio che dovrebbe essere quasi con il naturalo che viene prima patto di corresponsabilità il patto di corresponsabilità è una forma di informativa cioè per cui non lo mettiamo non più sul cartaceo ma sul registro elettronico visibile da ogni famiglia la famiglia clicca la presa a visione non l'approvazione noi stiamo informando chiediamo le sanzioni disciplinari in un certo modo ti informo non sto qui a discutere così come anche il fatto che noi e il collegio docenti e le varie commissioni elaborano dei progetti educazione all'affettività la sessualità eccetera non è che dobbiamo andare a chiedere a ogni genitore se è favorevole o non favorevole se non è favorevole ad una cosa che consiglio di classe approvato tieni il ragazzo a casa e questo ovviamente è un'assenza non in deroga per intenderci un'altra cosa noi stiamo studiando noi intendo lo staff ma l'ufficio didattico stiamo studiando di rapportarsi con spazzari che tiene il nostro registro elettronico per fare in modo che anche per quanto riguarda le note disciplinari allora la nota disciplinare non parlo della nota disciplinare di classe parlo della nota disciplinare ad persona è vero che la nota disciplinare ad persona la deve vedere solamente la famiglia in questione però stiamo cercando di vedere come sia possibile che dopo che è stata data si mantenga in memoria per la famiglia sicuramente per il coordinatore per il docente che l'ha data ma che non possa essere eternamente vista da tutti soprattutto se si tratta di una nota che non è è entrato in classe e ha mangiato ma una nota più personale perché ha un elemento di in assoluto non di riservatezza devo essere però sicuro che se i docenti lo vedono tengono applicano il segreto più ufficio e professionale esempio io faccio una supplenza insegno in terza G faccio una supplenza in prima P quando io vado in prima P posso vedere le note invece di fare lezione mi diverto a vedere le note ecco vuol dire che io vengo a sapere una nota magari anche molto legata a un'attività di bullismo eccetera eccetera di un ragazzo che non è mio allora siamo all'interno del reparto istituzionale della questione del trattamento di dati i nostri però devo essere sicuro che poi usando il termine suo non vado al bar e dire sai che cosa ho letto rispetto al ragazzo di prima P cioè a mio avviso il rispetto del segreto di ufficio e professionale già risolve una buona parte dei problemi dei docenti interni alla classe e alla scuola poi la distinzione che ha fatto tra questioni istituzionali o meno ultima cosa nella nomina che vi sarà fatta io non so più come pregarvi il docente che finisce la sua ora e va in un'altra classe deve uscire da Info School deve chiuderlo non può lasciarlo libero in modo che quiunque arrivi e passi io a volte esco vado nei corridoi a lune 45 1.50 tralasciamo che la lima è ancora accesa il registro elettronico il computer è ancora acceso ma a volte è ancora acceso su Info School allora a mio avviso benissimo io poi sono il responsabile il titolare il responsabile però se voi notate A questo segreto di ufficio B l'attenzione alla chiusura del registro perché il registro dove voi trattate maggiormente i dati sostanzialmente e 3 la distinzione fra ciò che è istituzionale e ciò che non lo è a mio avviso è già una risoluzione non indifferente certo devo essere sincero non tutti i referenti in questo caso il DPO a cui facciamo riferimento hanno sempre lo stesso atteggiamento io ricordo lo sconcerto che è stato passato e lì è presente solo di S quando si è detto ma una volta che un ragazzo o una ragazza fa un disegno o fa un compito di chi è la proprietà del compito la si può utilizzare allora dovete mettere nell'informativa se non nel consenso che il compito qualunque il prodotto dell'ingegno dello studente diventi di proprietà della scuola perché altrimenti tu non puoi utilizzarlo in nessun modo per cui poi ovviamente c'erano molti dirigenti del primo ciclo che hanno grossi problemi pensiamo alla mensa eccetera molti maggiori che si sono scatenati da qui il riferimento all'1% a situazioni incredibili mentre io preferivo poche cose ma che quelle siano chiare praticamente bene è il benvenuto grazie grazie io non voglio vi do intanto una risposta breve poi per intero sembra quasi fatta apposta famiglia in crisi all'1 maggiorenne per intero gli argomenti saranno trattati verso la fine detto brevemente l'alunno maggiorenne resta un figlio pertanto in alcun modo decade la posizione di responsabilità genitoriale dei genitori se ci sono ovviamente e quindi è sia infondata quella quella nota che era nata su scuola zoo anni fa che diceva cara scuola sono diventato maggiorenne da oggi parli con me non ti rivolgi più ai miei fuori tiro vi ricordate quella sentenza che fece tanto chiacchierare sui no non la ricordate sui bamboccioni ve la ricordate cosa che diceva quella sentenza diceva in ambito di come dire di alimenti nel nel rapporto fra nelle copie separate o divorziate si diceva ma il figlio perde il diritto ad un mantenimento riflesso non quando a 18 anni ma quando poi si usava una formula un po' ampia quando si affranca completamente dalla dimensione socio-economica della famiglia il che vuol dire in sostanza diventa indipendente il che perdonatemi accade sempre meno nell'età scolare che vi riguarda quindi concluse la corte non è con il compimento della maggiorità che si rescindono tutti i legami con la famiglia e in ogni caso il genitore resta genitore in quanto esercente la responsabilità genitoriale quindi non è un trasferimento diciamo di responsabilità sul figlio la sua domanda invece è un pochino più complicata nel senso che potrei risolverla rapidamente quale che sia il regime di separazione nella coppia in crisi quale che sia il regime di affidamento del figlio quale che sia il vincolo matrimoniale che può esserci e non esserci come è ovvio entrambi i genitori sono perfettamente autonomi nella gestione del rapporto con la scuola entrambi sono titolati a vedere quello che credono il problema si pone poi sui soggetti satellitari ai genitori quindi potrei risolverla così nulla cambia in tema di credo religioso dei due genitori sono entrambi completamente autonomi poi come sapete ci sono questioni invece su cui occorre che i genitori si accordino perché altrimenti la scuola si paralizza per esempio l'uscita ma certo oppure giustifiche oppure il novero dei soggetti che possono venire a parlare con voi perché se manca l'accordo su quello non ne caviamo i piedi se il nuovo compagno della madre la nuova compagna del padre non è autorizzata anche dall'altro genitore il problema si pone dopo sarò più specifico perché qui l'argomento è a mio avviso un po' più complesso scuola lavoro le scuole superiori hanno il diritto di passare l'elenco dei diplomandi o dei diplomati alle imprese caspita in fondo va anche sul giornale possiamo la norma eccezionalmente ma è un'eccezione gigante impone il consenso per la trasmissione dei propri dati come diplomato o diplomando a un'impresa privata perché perché mentre concordiamo tutti sul fatto che le funzioni istituzionali della scuola sono istruzione ed educazione non tutti concordiamo sul fatto che la scuola si occupi anche di diciamo collocamento professionale e quindi la norma italiana ed è l'unica in ambito europeo dice no per dare i dati del diplomando o del diplomato a fini di collocamento a fini professionali hai bisogno di un consenso è l'unica gigante eccezione il nuovo regolamento non è così convinto ma ad oggi diciamo cautelativamente ci muoviamo su questa su questa strada su curriculum e identità digitale dello studente non vi dico molto perché lascio i puntini apposta nelle slide perché caspita l'opinione del ministero cambia ogni 5 minuti l'idea è questa si vorrebbe creare un portfoglio degli studenti in remoto quindi affrancarsi dai software in locale e creare una pagina non diversa da quella di un social network a cui accedano le varie scuole che nel tempo hanno in carico lo studente qui ci sono questioni di riservatezza sottese che hanno a che fare con i livelli di privilegio prima si parlava nel registro di chi può accedere a cosa la riservatezza a livello informatico è in effetti questo chi ha l'autorizzazione per accedere a che cosa risolto questo forse il ministero sdoganerà questo piano tocchiamo un punto dolente cellulare a scuola facciamo prima una domanda semplice si può portare perdonatemi faccio faccio giurista portare ma certo non c'è modo né in cielo né in terra di vietare di portarlo a scuola come è ovvio si può utilizzare è una questione è una questione di che rilievo qual è la sanzione in cui incorre l'alunno adesso lo dico sottovoce e il resto del personale che utilizza il cellulare durante le attività qual è la sanzione non intendo quale specifica qual è la categoria della sanzione disciplinare ok ora possiamo senz'altro inserire nel regolamento interno una regola e anzi lo avete visto nelle varie bozze di regolamento tipo che inibisca l'utilizzo a scuola del cellulare fin qui è tutto facile veniamo a un caso di cronaca vi ricordate Pordenone? qualcuno si ricorda infatti ha fatto una faccia Pordenone un video finisce su youtube e ritrae una docente in atteggiamenti diciamo non del tutto decorosi c'è un allunno a fianco della catevra e un altro con non voglio essere fuori luogo però insomma con le mani addosso alla docente mettiamola solo così il video finisce su internet 2 milioni 800 mila visualizzazioni che che facciamo cosa cosa intravedete qui al di là della della questione che è pruriginosa come tutte le questioni pruriginose attraggono contatti facciamo temo che ci sia tra l'altro un sequel ma insomma che facciamo qual è il problema chi è responsabile di cosa non c'è dubbio il docente ha sbagliato a comportarsi e con il suo comportamento non solo ha come dire dimostrato una violazione dei doveri d'ufficio ma anche in qualche modo che cosa ha meno chi è che ne esce male da questa storia l'insegnante e la scuola tombola il comportamento del dipendente infanga anche non solo anche il nome dell'amministrazione e 2 milioni 800 mila persone pensano che là dentro chissà cosa succede perdonatemi se volgarizzo ma il responsabile della pubblicazione di quel video la domanda è è il ragazzo che ha fatto click quando l'ha messo su youtube o è il docente che non lo ha impedito la corte ha detto il ragazzo anzi volendo essere esatti la famiglia perché era minore questo per dire cosa il garante ha detto tante volte che il docente a scuola non è un poliziotto e è dotato perdonate di poteri coercitivi tutto sommato molto contenuti perché voi potete ordinare intimare richiedere esigere che il cellulare sia messo via quello che non si può fare come sapete è il gesto di strappargli dalle mani ma non è un problema penale di lesione o meglio non solo non è un problema penale magari gli faccio male non è un problema civile magari mi cade che poi peraltro fa parte del problema perché poi fra un attimo parliamo del sequestro del cellulare il punto è però che in un'ottica come questa il garante ci ci scusa ci esime da ogni responsabilità civile legata all'acquisizione di quel video tradotto foto a scuola fatte dai ragazzi video a scuola audio registrato dai ragazzi che sfuggono alla mia vigilanza perché non me ne accorgo o non riesco ad entrare in possesso del oppure non mi obbedisce quando non importa la responsabilità dell'eventuale pubblicazione resta in capo a chi pubblica come è ovvio e normale che sia conseguenza non esiste un profilo omissivo da parte vostra nel non avere impedito la generazione la registrazione di quel video Pordenone ha insegnato in quella vicenda che la docente è stata licenziata e però poi è stata reintegrata dal giudice del lavoro ma dopo dopo chi è che questiona abbiamo detto che c'è un problema di responsabilità del dipendente nei confronti dell'amministrazione quella è roba di chi dove si discute questa storiella qui si non ha tutti i torti c'è un giudice in questo in questo paese che perdonate non voglio dire che è l'unico che dovrebbe farvi paura perché non è vero però la corte dei conti è un soggetto che nella vita fa questo da una parte recupera il danno creato dai dipendenti dall'altra punta i soggetti che hanno creato un danno all'immagine dell'amministrazione pubblica e chiede i danni questa docente virgola e il ragazzo cioè la famiglia sono finiti in corte per risarcire la scuola di quel danno ma il danno da cosa è stato creato è stato creato non tanto dalla questione diciamo diretta ma dal comportamento della docente che si è resa così insomma agli occhi di tutta Italia e temo non solo protagonista di un comportamento così fuori luogo ma nella sentenza è scritto molto chiaramente non è la mancata come dire non è il fatto di non aver impedito al ragazzo di registrare il problema il problema è come si è comportata vedete quale gigantesca differenza c'è in questa storiella non sono responsabile di quello che i ragazzi registrano pubblicano fotografano e poi di quello che fanno di quello che ne fanno poi è chiaro che se in quel video ci sono io che mi comporto in modo curioso beh allora se io creo un danno all'amministrazione è con il mio comportamento che questo avviene con questo intendo dire con resta responsabile dell'eventuale diffusione il soggetto che la mette materialmente in essere cioè chi pubblica è responsabile del danno creato con quella pubblicazione ancora recite e viaggi di istruzione anche qui il garante è stato chiaro non c'è perdonatemi adesso non so quanto sia ancora frequente però i vostri colleghi da altre parti d'Italia mi raccontano di questioni non del tutto cambiate da quando andavo a scuola io vent'anni fa recite viaggi di istruzione i ragazzi fanno foto alle recite i genitori fanno foto alle manifestazioni sportive organizzate a bracetto con il comune c'è gente che fotografa che registra dobbiamo impedire qualcosa? no qui c'è un'eventuale responsabilità in termini di diffusione cioè di pubblicazione per cui vale il punto precedente ma più in generale c'è un'opinione del garante della privacy che secondo me vale la pena così ricordare voi vedete una differenza fra una scuola che pubblica una foto in diciamo anche in home page del sito di una premiazione di un ragazzo magari che ha partecipato alle olimpiadi della chimica o che ne so e invece l'identica pubblicazione di un video che ritrae una scena diciamo meno edificante appunto l'idea della rissa da cortile di prima c'è una differenza è ovvio che c'è una differenza vero? la differenza di che natura è? il garante ha detto una cosa che è molto vaga eppure molto efficace ha detto non è vietato per le scuole pubblicare foto immagini video audio della vita scolastica questo spiega perché vi ritrovate ancora con brochure di alcune scuole che per esempio pubblicizzano l'attività della scuola con delle foto dei ragazzi dietro gli schermi dei laboratori nel laboratorio linguistico dei ragazzi che giocano a pallavolo in palestra e via così non è vietato virgola purché si tratti di immagini che raccontano di momenti dal valore virgolette positivo legati alla vita della scuola mi rendo conto non è granché come definizione è un po' vaga tutto sommato però è già qualcosa perché il garante ha detto appunto ragazzi in laboratorio dietro gli schermi sì ragazzi che giocano in palestra a pallavolo sì appunto rissa da cortile probabilmente no perché non abbiamo nessun vantaggio dal consentire questo tipo di pubblicazione non vi dovete stupire che non vi sia una norma più precisa in argomento ma per risolvere un problema come questo andava data una regola vaga che però consentisse grigio sufficiente da permettere certi tipi di pubblicazioni c'è stato un momento in cui le scuole avevano talmente paura di questa storia che uscivano le brochure dei ragazzi magari due bellissimi ragazzi diciottenni nella facciata del volantino però con il fumetto che è terribile da guardare nel senso che insomma intanto non è norma il fumetto è la striscia che vedete sulla stampa insomma che nasconde l'identità dei minori intanto è appunto legge applicabile agli organi di stampa e non applicabile all'amministrazione quindi non c'era ragione di applicarla ma dall'altra valeva quello che ha detto il garante vuoi utilizzare questo tipo anzi andiamo a fondo vuoi utilizzare l'immagine di due ragazzi sul tuo volantino è funzione istituzionale questa è una bella domanda io nel dubbio direi di no nel senso che la promozione della diciamo dell'attività scolastica probabilmente non fa parte della funzione istituzionale per cui magari un consenso ci sta ma di certo è un momento positivo della vita della scuola quello che ritrai in quelle immagini per cui non ci sono ostacoli una volta che ti sei accordato col singolo alla distribuzione di quel volantino nessun danno è stato creato anzi abbiamo raccontato un momento leggero vale ovviamente stessa questione per ah no recita viaggi di istruzione ne abbiamo già parlato poi registrazione delle lezioni questo interessa i docenti mi possono registrare mi gradirei una motivazione sì perché sì no perché no sì se me lo chiedono oppure e questo ha ragione il vostro collega il problema di fondo è che cosa poi ne fanno la diffusione di quest'audio dove finisce mi può creare un danno attenzione a riempirsi la bocca non lo ha detto lei ovviamente lo sto facendo io a riempirsi la bocca della definizione del danno non è facile poi dimostrare questi danni spesso siamo trascinati da una società ossessionata dalle ipotesi risarcitorie a riempire di danni ipotesi che in realtà di danni non ne creano o almeno non siamo in grado di dimostrarli il punto è il tribunale di nemmeno troppo lontano Venezia ha detto che è vietabile il regolamento interno io sono rimasto un po' perplesso devo ammettere perché non credevo che si potesse pensavo se applicasse la regola generale che è quella che ha detto lei cioè non ci sono ostacoli ad una registrazione permettete come questa non ci sono ostacoli ad una registrazione quello che poi viene fatto della registrazione è rilevante in punto di responsabilità ma non la singola registrazione per cui della diffusione resta responsabile l'autore materiale intendo dire della pubblicazione e non c'è dubbio DSA a parte ovviamente perché se è quello il disturbo specifico dell'apprendimento non ci sono ostacoli a consentire la registrazione ma il tribunale di Venezia con una decisione che a mia modesta conoscenza è l'unica in argomento ha detto che si può vietare il regolamento interno io starei alla larga da una decisione di questo tipo però vi porto lo stato delle cose mi scusi prego allora per quanto riguarda la differenza l'uso dei smartphone e tablet a parte la distinzione qui la considerazione poi c'è la domanda la considerazione noi stiamo lavorando per fare un regolamento in cui sia ben chiara la differenza tra l'utilizzo privato e l'utilizzo didattico di smartphone e tablet a scuola va da sé che per quanto riguarda l'utilizzo degli smartphone personali per uso personale vale quello che le ha detto allora lo possono portare io posso chiedere la consegna perché non so l'utilizzo ma non posso imporla e andare a prendere semmai qua scatta la sanzione disciplinare se continui a tenerlo e poi tenerlo acceso per quanto riguarda però la ripresa punto successivo delle immagini dunque può essere utile anche in questo caso ho sentito pareri diversi in alcuni casi mi si dice sarebbe bene che per ogni utilizzo di immagini da parte della scuola di studenti anche in chiave positiva e potrebbe essere mettere sul sito la fotografia dei vincitori di una gara occorre che ci sia la nulla osta della famiglia caso per caso seconda versione no dovresti metterlo semmai nell'informativa spiegando che tu utilizzi queste immagini in chiave positiva e quindi famiglia sai che sarà così siccome tutte e due le due posizioni non vengono dalla zia Maria che passa ma immagino entrambe titolate allora in sostanza io propendo per la seconda anch'io senza dubbio come mai c'è questa differenza di posizione perché non è chiara la distinzione fra consenso e informativa il consenso detto brevemente non solo non serve quando il trattamento è concesso ma ve lo assicuro in tribunale come dice Laura Paolucci che non è l'ultima arrivata il consenso non serve e non sana cioè o il trattamento è legittimo oppure no se il trattamento è illegittimo non è con il consenso che ne cavo i piedi per cui se sta nell'informativa io sono stato chiaro caro genitore è possibile che l'immagine venga utilizzata anche per queste finalità può finire sul sito della scuola nella sezione viaggi di istruzione recite manifestazioni sportive ti deve star bene non è negoziabile se invece l'ha soggetto ad un consenso prima o poi succederà che io nella stessa fotografia ho un ragazzo la cui famiglia ha dato il consenso e un ragazzo la cui famiglia non ha dato il consenso non ne cavo i piedi la seconda posizione è senz'altro quella corretta vado un pochino più rapido perché ho molte cose da dire dopo graduatorie del personale delle supplenze ma la graduatoria è pubblica per legge ma non c'è niente da discutere la graduatoria nasce per essere pubblica nel senso che tutti i soggetti che sono iscritti nella graduatoria hanno consentito nel momento in cui hanno fatto la domanda alla comparazione dei dati che hanno fornito all'amministrazione per poi portare al risultato finale che è quello della compilazione della graduatoria sono comunque soggetti al principio di necessità capita ancora di vedere numeri di telefono indirizzi nelle graduatorie spesso per questioni legate alla necessità di reperibilità della segreteria volendo applicare correttamente a mio avviso la norma sulla riservatezza la regola è sempre quella che è il principio di necessità cosa serve nome, cognome, punteggio posizione graduatoria abbiamo finito la questione delle graduatorie è diventata più rilevante ultimamente in tema di accesso agli atti prima abbiamo accarezzato appena la questione vi ricordo che in materia l'accesso dei soggetti che fanno parte delle graduatorie è particolarmente penetrante ci sono anche lì delle regole dettate dalla disciplina della riservatezza mettiamo il caso mica tanto pellegrino che voi partecipiate ad una graduatoria in cui per quello che vi serve c'è un posto solo arrivate secondi siete pari merito in termini di punteggio con il primo quindi c'è un titolo preferenziale che consente che il primo stia dove sta con l'istanza di accesso agli atti cosa potete sapere di questa persona la risposta è ho diritto di sapere qual è il titolo preferenziale quindi addirittura potrebbe arrivarmi un'informazione delicatissima come la presenza di una 104 ma di nuovo principio di necessità anzi questa volta indispensabilità saprò che ha la 104 ma non saprò perché è la stessa questione dei certificati medici vi ricordate quando i certificati medici contenevano la diagnosi perché non c'è più per questa ragione perché non è necessario oggi la prognosi è necessaria è certo che aspita dovremmo sapere quanto tempo ma la diagnosi non è necessaria è un dato sensibile che non è necessario condividere e parentesi come immaginate può diventare invece necessario nell'ipotesi che si tratti di un malanno contagioso si tratta sempre di bilanciamento la regola è sempre da una parte la riservatezza dall'altro diritti più pesanti prima abbiamo fatto un esempio facile nella mensa dovremmo sacrificare la riservatezza del ragazzo per permettere che resti al mondo facendo sapere che facendo sapere al personale che gli mette in bocca il boccone che certe cose non le può mangiare quindi lì è facile in altri casi come questi il confine è più sottile certificato medico sì dà la diagnosi no perché non è necessario però la prognosi mi serve qui sta il punto questo caso viene da Padova vi ricordate il panino è così che se ne è parlato la questione del panino qualcuno se la ricorda ok cos'era successo era successo che la scuola aveva qualche difficoltà nella uso la parola sbagliata riscossione del contributo scolastico riscossione è una parola sbagliata che come sapete non ha carattere obbligatorio aveva talmente difficoltà che il servizio mensa era in pericolo per mettere mano alla questione si propose quel regime alimentare come dobbiamo dire parziale mediato non saprei ci sono tante parole morbide per dirlo però insomma misto non è male chi pagava tutto aveva il pasto completo gli altri sia quelli che non pagavano tutto sia quelli che non pagavano niente avevano un pasto come dice garantivano la sussistenza mi sta bene pane e acqua è quello che è arrivato ai giornali non era proprio così però insomma tra l'altro decisione soffertissima dalla dirigente che era una persona è una persona di altissimo valore ho avuto la fortuna di conoscere che si si è strappato i capelli nel cercare soluzioni alternative ed è arrivata questa soluzione come ultima spianza ma poi alla fine ai giornali è arrivato pane e acqua era successo e questo è il risvolto che ci importa in punto di riservatezza era successo che per come dire facilitare il lavoro nella mensa la concessione di questi pasti completi oppure no era affidata ai buoni di colore differente quindi buoni rossi pasto completo buoni gialli pasto per sé e qui il garante ci ha fatto una testa così sul fatto che quello da solo era un dato che confessava la morosità della famiglia aveva ragione tutto sommato aveva ogni ragione però questo questo sì che è l'uno per cento in tema di trasporto ma questo succede sempre meno è vietato pubblicare gli elenchi degli utenti o i percorsi qui vado rapido perché non vi riguarda direttamente video sorveglianza domanda si possono mettere le telecamere a scuola? beh no è una risposta molto molto netta perché non dico no non ho dati percentuali però in tante scuole d'Italia ci sono le telecamere dove sono le telecamere? qui ci sono non vorrei fare scivoloni non ci sono ok in realtà non avete niente torto perché la modalità standard di indagine a scuola coinvolge la dirigenza ma capita più che spesso che si venga di notte si piazzino poi si torna la notte dopo si tolgono i saluti d'altra parte è il lavoro della procura della repubblica chiuso la parentesi si possono mettere? dove? partiamo da questioni semplici capita ancora dalle 5 alle 10 volte l'anno che arrivino al ministero soprattutto o alle polizie municipali che non so perché sono ritenute depositarie di questa questione domande di installazione delle telecamere nei bagni pensabile? ok perché no non c'è nemmeno bisogno di dirlo vero? ok andiamo però andiamo a segno negli antibagni perché a volte negli antibagni no però qual è il pensiero? perché a volte alle spalle di queste domande c'è semplicemente un disinformato ma alle volte c'è la disperazione di chi a scuola tratta questioni di spazio di prostituzione minorile e cavarne i piedi non è facile ora la risposta è no le telecamere a scuola vanno solo negli orari di chiusura questo già vuol dire tanto eh solo nel perimetro nel perimetro della scuola soprattutto per le scuole interessate da fenomeni di vandalismo come capita insomma quindi monitorare il perimetro ha un senso con gli appositi cartelli e c'è un tribunale che dice anche durante l'orario scolastico se sono limitate al perimetro questo non coinvolge eventuali guardiole come a volte ci sono in cui c'è ovviamente il citofono anche quando è un video scitofono intendo è allo studio un regolamento che sarà fatto con il ministero dell'interno che dovrebbe chiudere la cosa in questo modo oggi abbiamo ancora guardiole con il video si vuole superare anche questa impostazione e fare in modo che le telecamere quando sono installate mandino il segnale non ad un monitor dove qualcuno deve stare a guardare ma ad un disco fisso il disco fisso le trattiene per 10 giorni se c'è bisogno andremo a vedere questa è la soluzione più diciamo asciutta in termini di riservatezza può capitare capita anche ai docenti che qualcuno da fuori ci chieda di sottoporre ai ragazzi questionari per attività di ricerca ma ormai abbiamo imparato niente consenso è possibile pensate ad un'università che si rivolge alla scuola dicendo sottoministrate ai ragazzi questi questionari la regola è semplice mai può avere carattere obbligatorio in nessun modo perché in effetti due amministrazioni stanno approfittando della disponibilità dei ragazzi a scuola ma in nessun modo possono imporre l'obbligo è possibile ma solo previa informativa nessun consenso ma se lo messo in informativa può accadere e in ogni caso il ragazzo non può essere costretto mentre il fronte di questi questionari per l'attività di ricerca può ancora vagamente ricondursi alla dimensione scuola se invece i questionari e le domande che vengono poste hanno natura commerciale non c'è nessun dubbio che non si possa fare perché cade completamente il legame con la dimensione scuola che a quel punto diventa una vetrina e non si può utilizzare in questo modo fronte social network e IAM instant messaging quindi whatsapp messenger eccetera possiamo prendere gli indirizzi email dei ragazzi ai fini dell'iscrizione su una piattaforma di condivisione dei materiali non so una dropbox un google drive un google documents per condividere dei documenti si può come dice appunto certo possiamo ma ricordiamo il principio di necessità e la finalità istituzionale cioè ci stiamo muovendo nella dimensione scuola il fatto che il docente decida invece di distribuire delle fotocopie di certo non c'è dubbio c'è anche un aspetto economico invece di distribuire delle fotocopie di condividere la documentazione per il tramite di una piattaforma non pone problemi di riservatezza dovremmo al più prevedere l'ipotesi che il ragazzo che non può essere costretto ad avere un indirizzo email possa ottenere il materiale diversamente sì certo non so quanto sia pellegrina quest'ipotesi può accadere ovviamente può ancora accadere però forme informatiche di condivisione di materiali che prevedano l'utilizzo di un dato personale sono possibili purché limitate a questa finalità significa che se il gruppo whatsapp di una classe viene utilizzato non per la condivisione dei materiali o per ragioni istituzionali ma per le chiacchiere di corridoio il problema si pone nel senso che abbiamo utilizzato un dato personale che è un indirizzo un numero o un nome utente o quello che è per una finalità diversa da quella istituzionale devo ammettere che nelle condizioni di utilizzo whatsapp dice di essere riservato ai maggiori di 16 anni e vabbè auguri credo che non sono credo che su certe cose dobbiamo dobbiamo cedere di obbligo vaccinale vista la natura della scuola io non parlerei a meno che non abbiate domande vado invece alla questione che dicevamo che dicevamo prima qui la domanda è con chi posso parlare e per articolare la risposta la vediamo sulla base dell'impatto della crisi coniugale dando per scontato che diciamo la coppia unita a prescindere ovviamente dal vincolo matrimoniale cioè sposati o meno è ugualmente autonoma nella consultazione del docente della scuola tradotto il padre e la madre del ragazzo hanno uguali ed identici diritti di sentire dalla scuola come va in ogni fronte con la segreteria con la dirigenza con i docenti uguali autonomi significa che virgola finché non nasce un problema virgola sono entrambi completamente autonomi cioè non hanno bisogno del consenso dell'altro poi adesso approfondiamo coppia unita nessun problema coppia separata cambia qualcosa ma certo che no se non ci sono ma servono dei bei provvedimenti eh e come dice come facciamo ad identificare i genitori al momento del colloquio vuole dire è una brutta risposta a quella che le sto per dare perché mentre mentre i genitori possono nel dialogo con la segreteria rilasciare una lista dei soggetti titolati a parlare con la scuola e quindi anche nel colloquio docenti e là dove le liste coincidono io so di avere un soggetto in più che può essere nonna fratelli zii ma anche soggetti in teoria accade molto meno non imparentati mentre questo è ovvio il problema del riconoscimento sul momento è già stato sollevato con una conclusione devo ammettere modesta si è detto malgrado il ruolo di esercente un servizio di pubblica utilità e a tratti di pubblico ufficiale del docente il riconoscimento funziona in questo modo lei può chiedere un documento ma ha meno poteri del controllore dell'autobus nel senso che lei può chiederli ma lui non lui o lei non è tenuto a darglieli per ovviare a questa meccanica ci sono scuole che all'ingresso registrano gli avventori diciamo quelli che vengono da fuori si tratta però come dire di soluzione probabilmente di utilizzo dell'acetta là dove basterebbe la forbice per essere precisi però il regime giuridico è questo manca la norma attributiva di un potere coercitivo di come dire identificazione norma che appunto il controllore dell'autobus ha dicevamo coppia separata cosa cambia la risposta è niente intanto sono ancora marito e moglie bene certo la separazione non incide sul vincolo matrimoniale sono ancora marito e moglie per quel che vale in questa vicenda che è nulla visto che abbiamo già detto che prescinde dal vincolo matrimoniale sono ancora marito e moglie sono entrambi autonomi saliamo un gradino coppia separata con affido esclusivo del minore ad uno dei due arriva l'altro ha un limite nessuno nessun limite l'affido esclusivo è un provvedimento di carattere logistico non punitivo il giudice non ha deciso qual è il genitore migliore dei due non è così l'affido è un provvedimento di carattere logistico vi faccio l'esempio facile per andare alla mia tesi dopo la separazione uno dei due se ne va magari lontano all'estero il provvedimento del giudice che di solito decide per l'affido come si dice condiviso il provvedimento del giudice può andare nella direzione dell'affido esclusivo al coniuge diciamo che resta proprio per tutelare la vita del minore che non viene stravolta dalla separazione dei genitori ma appunto è questione di logistica non stiamo decidendo quale dei due è più degno conseguenza nulla cambia nel rapporto con la scuola ci arriviamo terza ipotesi genitori divorziati non sono più marito e moglie cambia qualcosa è facile ormai no ma certo e taglio corto nemmeno in ipotesi di divorzio con affido esclusivo allora quando è che cambia qualcosa la risposta è qui e la domanda che prima ho sentito la risposta è quindi cambia qualcosa quando uno dei genitori viene privato della responsabilità genitoriale domanda ma io lei l'ha fatta meglio ma io che ne so che uno dei due genitori è decaduto e la risposta per fortuna è consolante cioè finché non lo so non lo so nel senso che finché l'amministrazione non viene informata anche perché di solito accade rapidamente cioè se uno dei due decade l'altro il coniuge superstite di solito molto rapidamente informa la scuola questo è un problema che non si pone anche perché questi provvedimenti di solito accedono a situazioni particolarmente complicate insomma di violenza sui minori di maltrattamenti in famiglia di violenza domestica e via così quindi solo quando uno dei due genitori sia decaduto dalla responsabilità genitoriale che è il modo in cui oggi chiamiamo quella che un tempo era patria potestà e poi è stata brevemente potestà genitoriale e oggi articoli 155 e 315 del codice civile si chiama responsabilità genitoriale nel momento in cui decade e io ho la sentenza per le mani per la verità il PM me la dovrebbe mandare ma non capita sempre nel momento in cui lo vengo a sapere allora di nuovo dati giudiziari quindi delicati principio di necessità la dirigenza informerà chi tutti con una circolare ma no non serve non è necessario non è indispensabile è invece il caso di informare quei docenti che potenzialmente possono essere interessati dal colloquio è ovvio no adesso perdonate però una volta che la regola è nota è quello il punto nell'ipotesi di provvedimenti differenti come vincoli di residenza ordinanze restrittive come ci insegna la televisione americana e cose del genere in realtà queste non impattano sulla possibilità del genitore di informarsi presso la scuola cioè anche il genitore che debba stare a una certa distanza dall'altro genitore in realtà può venire a scuola quando invece deve stare a una certa distanza dal figlio le cose si scaldano e lì alzare il telefono e avvisare i carabinieri può essere una buona idea rispondo meglio alla domanda di prima che succede al compimento della maggiorità sempre in punto di riservatezza ovviamente in ordine alla riservatezza del ragazzo i 18 anni cambiano qualcosa detto forse troppo brevemente no l'alunno maggiorenne dice la corte in quella sentenza che abbiamo citato prima resta un figlio perché i genitori hanno il potere di ficcare il naso nel rendimento scolastico del ragazzo perché un articolo della costituzione dice che i genitori hanno il diritto e il dovere di educare la prole bene che è terminologia degli anni 40 ma tiene insomma diritto e il dovere di educare la prole fra le modalità di esercizio di quel diritto c'è anche la consultazione della scuola cioè io per fare un lavoro decente da genitore chiedo alla scuola quello è una manifestazione del mio diritto quindi siccome il maggiorenne cambia nello stato giuridico perché diventa capace questo non cambia invece il suo rapporto con i genitori dei quali resta un figlio il diritto e il dovere ad educare la prole sopravvive diciamo al compimento della maggiorità quindi nulla cambia in termini di riservatezza per il ragazzo che diventa maggiorenne prego sì sì è vero mi scusi se sorrido ma le domande che iniziano con non riguarda me non è il mio caso di solito nascondono invece una conclusione diversa no ma ho sentito dire un amico un cugino invece no non era per cui mi ero fermato un momento prego no certo eh ma non ne ho certezza sì ma certo il punto è non considerare l'evento della firma del figlio come la chiusura del procedimento certo in termini diciamo vale anche al contrario il figlio ha sempre diritto a vedere tutelato se medesimo anche in ipotesi di conflitto con i genitori questo non è lì del diritto dei genitori molto bene sì spero di averlo di averlo risolto perché credetemi certo le posizioni di conflittualità in questa materia si esasperano facilmente le tante ragioni per cui abbiamo a che fare con questioni di risarcimento danni dalle famiglie nascono soprattutto da questioni come questa in cui manca una diciamo chiarezza cristallina dei confini di responsabilità ed è vero che manca però applicando questo tipo di regole in genere ne cadiamo i piedi si tratta solo di conoscere qual è la regola e perdonatemi se mi permetto non è un commento e essere rigidi nell'applicazione delle regole nei confronti dei soggetti estranei alla scuola un'ampia parte di quello che noi decidiamo a scuola è una decisione unilaterale trattarle in questo modo rende più aspro il conflitto ma è l'unico modo di cavarne i piedi perché la prima volta che cediamo con un soggetto che poi ritiene di avere un diritto nei nostri confronti e cerca di piegare l'attività della scuola al proprio intendimento dopo dietro lui se ne metteranno altri e poi il problema prima o poi si pone sì sì nessuna no andate ora precisiamo così perché volevo fare una domanda simile ma attenzione innanzitutto per quanto riguarda qui in questa scuola per quanto riguarda i colloqui e i rapporti con i genitori con i genitori con la scuola l'abbiamo già bypassata con una forma adesso ai miei occhi barocca rispetto al principio detto quando chiedevamo a tutti coloro che compivano 18 anni che se non volevano avere i genitori che colloquiavano colloqui individuali eccetera occorreva che ci fosse la firma del ragazzo e dei due genitori perché avevo in questo martellamento essendo competenti nel settore dei dubbi a questo punto mi sembra che il concetto sia chiaro adesso arrivo poi alle firme per le assenze le giustifiche eccetera mi sia chiaro e fra l'altro sono particolarmente felice delle ultime osservazioni che lei ha fatto per quanto si diceva attenzione che cedi in un caso anche se sai che non devi cedere perché hai pressioni pianti eccetera e poi hai l'effetto domino perché effettivamente molte volte mi trovo a dovermi irrigidire e ho sempre la sensazione che faccio la carogna però il problema è che poi sostanzialmente non ti fermi più invece a mio avviso mi era proprio venuta questa domanda che grosso modo è quella che ha fatto il professor Sardini ma altri volevano fare fermo restando la questione dei colloqui colloqui sia didattici che colloqui e partecipazione dei genitori alla conoscenza anche di alcuni regolamenti interni contributi eccetera eccetera per quanto riguarda la firma di giustifica non solo di uscita anticipate o di assenze fermo restando che per me il docente non ha nessuna responsabilità perché come nei nostri regolamenti si è scritto tu come docente a meno che non ti arrivi dal dirigente in formazione diversa devi solo cercare di verificare nel limite del possibile se la firma è falsificata eccetera altrimenti a questo punto chi firma assume la responsabilità ma se questo che abbiamo detto ha valore la firma dello studente sul diario sul libretto eccetera per uscita anticipata ingressi ritardati o giustifica di assenze è da accettarsi o meno preciso che mentre per quanto riguarda colloqui e similia quello che è stato detto segue non produce nessun cambiamento una risposta in questo senso per la giustifica mi piacerebbe tanto che si accompagnasse quantomeno ad una nota se non dico un documento più serio da parte del MIUR del ministero perché altrimenti succede che nessuno si assume la responsabilità quindi il ministero ma neanche i docenti e la responsabilità è da prendere il dirigente il dirigente no perché quando uno fa il dirigente a mio avviso a mio avviso sai che deve prenderle quindi anche quelle menate ma devo prendere troppe responsabilità eccetera facevi un altro lavoro però effettivamente il fatto di dover giocare non dicevo nell'ultimo collegio docenti giocare nel senso utilizzare il tuo lavoro con carte belle o carte brutte ma con carte coperte rende un pochino più difficile la cosa perché tutte le indicazioni di alcuni anni fa non più poi iterate come se fossero cosa ovvia non devo più insistere è 18 anni la giustifica la può fare il ragazzo punto è vero non è vero è vero e esime da responsabilità la scuola tanto più dopo la norma che il precedente ministro fece uscire a seguito del dibattito creato dall'ordinanza di cui parlavamo prima vi ricordate cosa dice la norma la norma dice che il personale della scuola è esentato da responsabilità in queste ipotesi nelle uscite non accompagnate due norme due articoli inseriti nella norma uno a scriminare i docenti dell'ultima ora perché perdonatemi signori ma l'uscita molto infelice di allora sull'abbandono di minori aveva poi creato una valanga di terrore cioè io mi trovavo a dirigere il traffico in collegi in cui i docenti legittimamente si rifiutavano poi di consegnare il ragazzo nel clima di terrore che si era venuto a creare dopo quell'ordinanza ma mi sono spiegato vero all'inizio quell'ordinanza non diceva niente di nuovo in quell'ordinanza si diceva mannaggia proprio in questo caso la scuola si è obbligata ad un aspetto dell'obbligo di vigilanza che normalmente non c'è questo significa che la famiglia ha diritto di pretenderlo e quindi se la scuola manca nell'obbligazione che essa stessa si è attribuita in sede di regolamento e non mi so spiegare perché se la scuola manca nell'accompagnamento del ragazzo alla fermata il problema si pone è un problema di contratto è una cosa semplice cioè non c'era nessuna nuova lettura del ruolo della scuola o del personale la corte di Cassazione ha fatto il suo lavoro ha detto questo è il contratto cos'è che dice il contratto che lo devi portare fin lì ce l'hai portato? no e allora ne rispondi ma non era più complicato di così poi però invece la precedente amministrazione ministeriale se ne esce con una nota sull'abbandono di minori e parte il panico per cui mi trovo i collegi che mi dicono ma io non lo lascio il ragazzo se lo verranno a prendere legittimo legittimo ed inevitabile perché in un clima come quello in cui il contenuto della sentenza dell'ordinanza non era noto si è scatenato il panico dopo è arrivata la legge e la legge scrimina tutti volendo essere esatti esatti precisini precisini come è tipico di certi giuristi di quella legge non c'era bisogno perché volendo essere precisini un regolamento simile a quello che invece no non invece che similmente imponeva l'accompagnamento del ragazzo alla fermata io non l'ho mai visto io ho visto solo quel caso più unico che raro davvero di regolamento che imponeva un'obbligazione di questo tipo però con la norma abbiamo chietato gli animi e in effetti dopo le cose si sono diciamo avviate oggi non trovo strano basare su una legge della Repubblica un'esenzione di responsabilità che conferma il quadro precedente concordo che una nota ministeriale non sarebbe così male tutto sommato varrebbe la pena anzi in ambito scuola estendere il contenuto di questa nota ai casi come si dice di massima no maggiore importanza ovvero io ho dato una regola non io ovviamente che dice io entrambi i genitori sono autonomi bene finché sono concordi tutto bene che succede quando il padre vorrebbe tanto che ai colloqui venisse la nuova compagna ma la madre proprio non vuole che succede? su questo sono d'accordo non sono situazioni in cui può entrare la scuola e questo è sia la soluzione che parte del problema spesso invece la scuola tenta di comporre queste situazioni il che è meritorio fino a un certo punto perché anzi è un'opera da come dire pazienza da elefanti quella di tentare di comporre posizioni a volte conflittuale in modo necrotico ma altre volte si deve prendere coscienza del fatto che fino a un certo punto si può arrivare ma oltre no e c'è un luogo solo in cui questioni come queste si possono risolvere e credetemi non lo dico volentieri perché malgrado sia il mio lavoro delegare la soluzione di queste questioni al tribunale non è sempre una buona idea eppure ai dirigenti e ai docenti che mi chiedono come faccio a risolvere una questione del genere purtroppo la risposta è semplice questi due se ne vadano in tribunale il tribunale decide rapidamente queste questioni non sono cause ordinarie che portano via anni le cause ordinarie portano via anni è vero è nella vulgata le questioni dei minori si risolvono nel giro di qualche giorno soprattutto nei tribunali piccoli per cui può ben accadere che un conflitto nato fra i genitori al momento dell'iscrizione si componga prima dell'inizio delle attività didattiche succede poi c'è tribunale tribunale Milano farà più tardi Roma farà più tardi ma magari i tribunali più piccoli fanno presto il conflitto fra i genitori sotto questo profilo va risolto da loro se riusciamo a comporlo noi abbiamo fatto un miracolo ma se non ci riusciamo a un certo punto ci fermiamo e dobbiamo dire signori bisogna che la risolviate perché non è un problema nostro questo poi porta a cose faticosissime specie nell'uscita da scuola perché si presenta la persona sbagliata in difetto di un consenso congiunto noi non possiamo rilasciarle quindi le cose si fanno faticose chiamiamola municipale sono tutte cose faticose me ne rendo conto ma perché dicevo servirebbe una nota perché in quella nota dovrebbero finire tutte le questioni di come si dice massima importanza ovvero domanda qual è l'ipotesi in cui è necessario che entrambi i genitori siano perfettamente d'accordo risposta da codice civile quelle di massima importanza bene quali sono iscrizione trasferimento colloquio con i genitori uscita da scuola queste sono cose che la corte di Cassazione ci ha insegnato da vent'anni e che il ministero potrebbe onestamente recepire se ci dicessero in questi casi hai bisogno di due pollici alzati invece di uno solo con la tolleranza dell'altro secondo me avremmo risolto tante tante di queste questioni viaggi e visite distruzione basta l'assenso di uno solo virgola a meno che l'altro non si opponga esplicitamente anche in quel caso di fronte alla dissenso dei due genitori ci tocca che lo risolvano loro ho abusato per sei minuti del del vostro del vostro tempo io credo di aver concluso a voi rispetto alle tante cose che ha detto il relatore molte domande sono già state fatte ce ne sono delle altre da porgli in modo da sfruttarlo come un limone fino in fondo no sì sempre per discussione di privacy perché io questa mattina sono posta il problema io ho la più dire come coordinato di incontrare i volti ai ragazzi perché in generale aveva un effetto molto l'ultimo deterrente quando vedevano tutti i volti rocci io questa mattina per la prima volta mi sono posto questo problema non ho mostrato il capellone ho fatto un discorso molto vano molto generale senza fare normi ho fatto un gioco divertito però alla fine mi sono chiesta se era la possibilità o no perché mi dovrei conoscere il problema mi sembra una cosa che diceva lei che riguarda la classe anche perché quando gli servono il tuo armi il tuo regolamento a conoscere la malattia non è che la malattia io la do facendo venire uno alla volta alla cattedra non c'è nessuna questione di riservatezza sottesa è libera di mostrare quei voti è libera di commentare la performance dell'uno dell'altro è libera di utilizzare questi dati per l'aspetto didattico legato alla funzione docente se dall'analisi del comportamento di altri il ragazzo deduce che può fare meglio di lui o peggio di lui e quindi trae una conclusione riguardo al proprio rendimento abbiamo solo operato funzione docente non c'è altro è tutto assorbito dalla sua posizione lei è l'ultima vittima di un terrore del tutto naturale legato alla circolazione incontrollata delle informazioni su questo argomento però mi credo il garante si è già espresso su questo il problema non si ripeterà è un momento di debolezza perché serve non leggere i giornali su questo io vi invito sempre a leggere le norme non i giornali perché effettivamente da questo anche di altre discipline che non le appartengono direttamente ho capito ho capito di far notare ma certo prima o poi qualcosa succede a mio avviso non cambia nulla a mio avviso non cambia nulla e non ha a che fare con il suo ruolo di coordinatrice sarebbe fattibile anche da altri non c'è non c'è il problema conferma di quello che ha detto quando si richiede anche un accesso agli atti mi precisi l'accesso agli atti quindi anche per vedere la valutazione delle singole verifiche una famiglia lo può fare dovendo dare una giustificazione e di interesse per proprio figlio non può chiedere accesso agli atti e le valutazioni degli altri ragazzi per poter fare un confronto ok allora arrivo accesso agli atti voi sapete come funziona perché o dal lato della ricezione o dal lato dell'istanza vi dovrebbe essere capitato le due questioni di fondo su cui si regge l'accesso agli atti sono la motivazione perché perché mi lo chiedi cosa vuoi sapere e l'interesse la domanda giusta sull'interesse è ma tu chi sei per chiedere proviamo ad applicare la mamma di tizio vuole vedere i compiti di tizio per vedere se i docenti hanno fatto il loro lavoro ha diritto? sì non c'è niente da discutere niente vogliamo vestirla di diritto come abbiamo fatto prima vogliamo dire che è una modalità di esercizio del diritto di istruire ed educare la parola come volete ma è più semplice è sua madre ha diritto quello che accade nelle istanze a cui fa riferimento il preside è questo che la mamma di Caio nutre invece un simile interesse nei confronti dei compiti non del proprio figlio ma appunto di tizio e il punto è qual è l'intento della mamma di Caio qual è l'idea cosa vuole fare come dice non ho sentito non è un può darsi certo parazione l'idea alle spalle dell'istanza di accesso agli atti è la comparazione che può essere diretta quindi a verificare se c'è stata una disparità di trattamento e via così vi faccio la stessa domanda rispondo vi faccio la stessa domanda in ambito concorsuale il secondo arrivato in una graduatoria concorsuale vuole vedere i compiti le prove gli elaborati quindi l'oggetto è lo stesso del primo ha diritto eh no signori e come se ha diritto e come se ha diritto in ambito concorsuale alla fine del procedimento c'è una tombola una graduatoria non solo le graduatorie sono pubbliche ma in più quando si tratta di diritto al lavoro e quindi di un concorso se io arrivo secondo devo sapere perché il primo è arrivato primo e quindi vado a vedere anche le sue prove per eventualmente proporre un ricorso basato su una disparità di trattamento la domanda che vi faccio sapendo ora questo e dandovelo per buono è a scuola esiste un pari trattamento di comparazione cioè il docente dice chi è il primo chi è il secondo chi è il terzo la risposta la sento un po' a mezzo cuore perché no 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 per carità la risposta giuridicamente è no però chi di voi ha sentito il singhiozzo prima di rispondere probabilmente ha in mente una modalità di valutazione dei ragazzi che diciamo in parte coinvolge il livello medio di rendimento della classe quindi si è sentito di dover dire beh però io un minimo di paradigma lo applico nella valutazione è possibile ma giuridicamente la differenza è siderale in un concorso c'è una graduatoria c'è un primo c'è un secondo c'è un terzo il secondo arriva a secondo ha diritto di sapere perché è arrivato secondo il che significa ha diritto di sapere perché il primo è primo a scuola no a scuola manca proprio quell'idea che si era fatta la mamma di Caio quella di vedere comparare le prove e applicare uno stesso metro di comparazione attenzione quello che vi dico adesso è il 95% della giurisprudenza ogni tanto un tar che dice diversamente lo trovate lo dico lo dico adesso perché l'ultimo è di giugno a giugno un tar d'Italia ha detto l'esatto contrario ha detto eh no ma come ogni tanto capita ma il tar ha un organo d'appello che è a Roma che è il Consiglio di Stato da anni il Consiglio di Stato la pensa così manca l'interesse manca l'aspetto comparativo che invece in un concorso c'è nel concorso li mettiamo in fila c'è il primo c'è il secondo c'è il terzo e via così nella scuola no se manca l'aspetto comparativo l'accesso agli atti non può essere concesso ah no mi scusi avevo una mano di qua prego ricordando la videota precedente quando una le domande lunghe mi preoccupano sempre è un problema di memoria più delle volte perché mi dica se noi abbiamo l'acquisto dei nostri allievi mostrando che il lavoro deve fare su ad un futuro esterno che è un privato a che rischia se noi scuole siamo ad un futuro privato esterno e anche un diritto di recuperare il lavoro per il lavoro risposta breve nessuno ma per dirle così devo allargare la questione se noi fossimo in un'altra sede di una chiacchierata più ampia sulla vita della scuola sui diritti e i doveri sottesi e se voi non mi aveste invitato per questa specifica questione io vi avrei detto all'inizio signori non datevi pensiero della riservatezza pensate all'obbligo di vigilanza l'obbligo di vigilanza è la vera croce del personale docente su questo non ho dubbi per una ragione molto banale che è l'inversione dell'onere della prova cioè mentre io spero non abbiate confidenza con questo strumento processuale chi di voi ce l'ha o si è preso un bello spavento o lo ha visto accadere ad altri mentre normalmente in tribunale chi vuole essere risarcito deve portare le prove di quello che è accaduto dico rapidamente nell'infortunio scolastico che è il classico caso che vede coinvolto il docente ma non subito e questo fa parte del dolore che porta il contenzioso nel risarcimento danni in quel tipo di contenzioso l'onere della prova è ribaltato cioè tocca alla scuola dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'insorgenza del danno c'è anche chi dice che non solo non è facile ma forse non è possibile dare con certezza questa prova visto che poi qualcosa è successo quindi mentre io ho il massimo rispetto per i vari aspetti di cui mi occupo di diritto scolastico la riservatezza l'attività negoziale la che ne so la sicurezza e via così devo ammettere che in punto di vigilanza le questioni si fanno calde al punto che quando è nato il progetto dell'alternanza scuola-lavoro il primo pensiero di chi di noi si occupa della difesa del personale della scuola fu questo che ne facciamo dell'obbligo di vigilanza per fortuna sia a livello normativo sia a livello di circolari il punto è affrontato e in sostanza si tratta di una di una diversa parametrazione dell'obbligo di vigilanza che il privato accetta nel momento in cui partecipa ai programmi di alternanza scuola-lavoro come? sì certo quando firma la convenzione e quindi eredita dalla scuola l'obbligo di vigilanza il punto che si era posto era molto molto più spinoso ed era se la scuola amministrazione pubblica può cedere l'obbligo ad un privato e questa sì che era una questione ad avvocati faticosissima forse irrisolvibile perché il genitore può dire ma io l'ho dato a te mica a lui perdonatemi sto volgarizzando nelle prime tornate che io sappia la questione però è stata affrontata in questo modo sono quasi tutte violazioni relative alla sicurezza al decreto 81 soprattutto nelle scuole diciamo che hanno più a che fare con quel tipo di attività e ad oggi la responsabilità è sempre stata trasferita sul privato posso? lo dico con dolcezza senza arrabbiarmi allora a parte che questo problema non si pone sviluppando project work e impresa formativa simulata per cui il liceo dovrebbe essere contento che non ha a che vedere con i tirocini curricolari io ho inviato tutta una serie di regolamenti e di note che se le mandi sono lunghe non le leggi poi c'è il turnover dei docenti per cui non so i docenti che vengono da altre scuole da qui anche l'intervento che faremo con i nuovi insegnanti sabato alle 12 non so se gliel'hanno detto ma ho sentito veramente le leggende metropolitane fra cui la non chiarezza fra il dovere del tutor scolastico e il dovere del tutor aziendale che è la stessa differenza fra il medico competente della scuola e il medico competente dell'azienda allora il tutor scolastico convenzione a parte ha il compito di andare possibilmente non telefonando ma andando nell'azienda nell'ente per vedere che il patto didattico sia realizzato non ha nessuna competenza di valutazione del rischio perché il rischio deve essere valutato dall'RSPP dell'azienda e semmai dal tutor aziendale che sono cose diversissime e dichiarate ufficialmente al di là di quanto tu dichiari nella convenzione eccetera questo a mio avviso vorrei che fosse abbastanza chiaro che la questione del tutor scolastico è dal ministero contrariamente alle note che non arrivavano sugli altri temi state inviate in maniera chiara tra l'altro si può anche intuire il perché il tutor scolastico per la sua competenza come diavolo fa a valutare le questioni di sicurezza all'interno dell'ente dell'azienda in cui il ragazzo va nel nostro caso specifico e per nostro intendo sia la provincia di Brescia che ha quel protocollo specifico sia noi che lo applichiamo seriamente i nostri allievi vanno in azienda con un libretto formativo e con la formazione sulla sicurezza certificata sia del modulo base del modulo specifico non so più come dirlo mi fermo qui c'era una mano di là prego bene va bene abbiamo capito abbiamo capito allora mettiamo il mio che si ha il mio che si ha ha un documento di questo qui mettiamo che il mio che si ha domandano prenda per la sua di gente o la prima dell'anno si chiara il mio la domanda in realtà è attrezzata perché il quesito come dire affronta una diversa ipotesi di disparità di trattamento in fondo in effetti la disparità di trattamento si realizza quando trattiamo in modo differente situazioni identiche non quando trattiamo in modo differente situazioni diverse perché voglio dire non è più una disparità ma come dire un'alterità di trattamento ciò malgrado devo ammettere non ricordo ci sono circa un centinaio di ricorsi l'anno in tutta la penisola in tema di accesso agli atti non ovviamente nelle scuole non tutti ovviamente di questo tipo non ricordo un caso specifico di questo tipo forse perché come dire la comparazione stride in quella direzione e l'impressione di ricavarne un argomento forte ai danni della scuola non è facile però non vedo ragioni per cui dovrebbe essere diversamente disciplinato mi aspetto che la giurisprudenza resti quella prego proviamo quello che crede se lo arroghi si riprende la domanda della collega precedente la collega forse allargava un po' il risultato non si riferiva solo alla sorveglianza del risultato ma anche al fatto che la scuola possa delegare ad una persona esterna una cosa che è tipicamente scolastico cioè la valutazione delle competenze dello studente e quindi poi dopo quando si è preso una faccia ma lì è regolato dal fatto formativo perché è una valutazione congiunta e quindi bisogna sottolineare questo aspetto che la scuola non delega nessuno a valutare quello che è il percorso formativo per quello studente perché in quel caso il futuro scolastico e il futuro aziendale devono valutare congiuntamente non può ognuno ritagliarsi la sua festa di valutazione e gestirla autonomamente solo per quanto riguarda il percorso di azienda mentre a essere di più la cosa che riguarda i viaggi di discussione e la sorveglianza durante i viaggi di discussione è secondo lei sbagliato o no dire agli studenti alle sette ci vediamo qui alle otte e mezzo tutti quanti dopo che avete fatto colazione o avete fatto il soffino oppure quando andiamo a fare un viaggio di discussione all'estero e i ragazzi sono affidati alle famiglie e io sono la persona che è lì che fa l'accompagnatore ma i ragazzi sono verso le famiglie io che responsabilità ho che sono affidati a delle famiglie verso le quali loro all'ogno le fanno uno scambio mi dispiace ma ho solo brutte notizie perché come funziona il contenzioso quando avviene un infortunio che succede? citano voi? no il più delle volte no se lo fanno c'è un avvocato che sa pochino di diritto delle scuole chi è il legittimato passivo? il legittimato passivo vuol dire la controparte chi è la controparte dei genitori nel risarcimento del danno? in realtà nemmeno non ancora anzi in realtà è il ministero no attenzione 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 sembra una buona notizia appunto allora qual è il punto? il punto è questo vi faccio un esempio sciocco perdonatemi se voi comprate una macchina e fate un incidente perché un operaio della casa che l'ha costruita non ha fissato il freno fate causa all'operaio o alla ditta che vi ha venduto perché come mai in fondo è colpa dell'operaio questa è una risposta ad avvocati ha ragione ovviamente però il punto è più semplice il danneggiato è sempre più tutelato se dall'altra parte non ha un qualunque dipendente o un qualunque dirigente ma noi la chiamiamo volgarmente la logica delle tasche che fonde perdonatemi è volgare però il punto è questo dall'altra parte deve avere un soggetto come diciamo noi solvibile cioè uno che può pagare perché se devo fare tutta sta fatica per ottenere una condanna nei confronti di un soggetto che poi non mi può pagare abbiamo tutti perso tempo la tutela del danneggiato si realizza in questo modo spostando il mirino su un soggetto che possa pagare perché prima ho definito crudele l'attesa che genera il contenzioso perché questa è in effetti la prima fase del contenzioso il ministero viene chiamato a rispondere del danno che la famiglia ha subito per diciamo fatto del proprio dipendente legge 312 dell'80 l'amministrazione si surroga i propri dipendenti nelle cause di responsabilità civile dopo il cosiddetto giudizio di rivalza è un giudizio in cui si valuta se il singolo dipendente risponda per ipotesi di come si dice dolo che possiamo escludere o colpa grave sì che è la stessa cosa la colpa è una declinazione della negligenza dell'imperizia del mancato rispetto di regole prudenziali e cose del genere dolo o colpa grave ora il ruolo del docente nei viaggi di istruzione è una proiezione dell'obbligo di vigilanza e qui temo non ci sia molto di più da dire nel senso che quando un docente viene da me disperato e mi dice io in gita non li porto più perché poi alla fine è colpa mia io devo ammettere che grosse parole di conforto al di là di quelle personali come giurista non le posso offrire perdonatemi l'unico modo di inquadrare correttamente la questione è quella di vederla dall'occhio del genitore che voi siate o meno genitori l'affidamento del minore alla scuola anche durante il viaggio di istruzione che come sapete non è una vacanza ma fa parte delle attività didattiche prevede la presenza di un soggetto in grado di esercitare l'obbligo di vigilanza e la ragione per cui arrivano le condanne la famiglia ha dato il minore alla scuola la scuola ne risponde non c'è altro che poi il ministero paghi in prima battuta e a volte devo ammettere scelga di non rivalersi sul singolo è questione però incidentale può accadere come non accadere e come immaginate nelle ipotesi più serie in genere accade per cui la risposta alla sua domanda ha le sue domande in realtà devo ammettere è quella cioè oscillazioni dell'obbligo di vigilanza non ce ne sono ed è una regola che è rigida a tutela delle famiglie nelle quali forse non facciamo fatica ad identificarci se ci troviamo a volte dall'altra parte perché io ti affido il minore poi se il discorso lo spostiamo su modalità pratiche che dicono che a volte non c'è modo di impedire il danno io e lei concordiamo completamente ma non c'è bisogno di andare in gita lo spostamento dei docenti fra le aule se non avviene col teletrasporto genera un momento a parte quei casi non so in cui il collaboratore mette la pezza perdonatemi sto volgarizzando ma non può accadere sempre non può accadere ovunque i numeri non ci sono cioè se pensate che il sistema in realtà sia perfetto e claudichi solo per errore umano no non è così il sistema è fallace da questo punto di vista cioè è nato fin da principio con il vizio che rende inevitabile l'ipotesi del pericolo poi che il pericolo si trasformi in un danno è lasciato alla provvidenza o a chi credete insomma temo non ci sia altro cioè nessuna parola da parte mia può mitigare l'estensione dell'obbligo di vigilanza e devo ammettere che prendere coscienza di questa cosa fa parte dei cosiddetti cruci informati cioè perlomeno lo so e come dire ci faccio pace ma mi creda non c'è altro mi scusi ma io ho due dubbi su quello che le ha detto uno è nella casistica che ha ipotizzato il professor Carola oltre a quello che lei ha cioè il viaggio di istruzione l'obbligo di sorveglianza ma nel caso però di scambi culturali o mobilità all'estero in cui il ragazzo viene affidato attraverso accordi con o enti agenzie o un'altra scuola ad una famiglia e si stabilisce anche l'accoppiamento di un ragazzo italiano con nel momento in cui il ragazzo è in famiglia non nel momento che è coinvolto in attività didattiche la responsabilità di chi è ancora hai ragione in effetti me l'aveva chiesto ho mancato di rispondere allora lì le cause si sono divise in due sull'obbligo di vigilanza sono divise in due cioè quelle in cui l'evento aveva a che fare anche con la selezione della famiglia cioè si erano scelte famiglie diciamo inaffidabili in radice per la gestione dell'obbligo di vigilanza e altri casi in cui invece l'evento era del tutto accidentale solo nel primo caso si sono ravvisate responsabilità di stampo ministeriale che devo ammettere poi il ministero al meglio della mia conoscenza ha trattenuto perché non è stato in grado poi di identificare il soggetto su cui rivalersi ai fini dell'identificazione perché in realtà come sapete spesso non c'è nessuna selezione preventiva si tratta anzi magari di un obbligo proiettato nella scuola estera o insomma nel soggetto con cui avviene lo scambio quindi solo in questo primo caso ho letto condanne ministeriali nel secondo caso no è vero l'estensione dell'obbligo di vigilanza non diversamente da quanto dicevamo in punto di alternanza scuola-lavoro avviene scusate ho mancato io di rispondere la seconda osservazione una cosa che per esempio quasi sempre in collegi e anche nei consigli di classe sottolineo è il fatto di stare molto attenti che un ragazzo di qualunque età nel nostro caso ai 14-18 anni lasci la scuola sponte sua senza nessuna giustifica senza nessun permesso quindi adesso non tocco il problema se qualcuno l'aspettava o non l'aspettava se ha firmato non ha firmato eccetera ma accade sono casi magari due o tre volte in un anno accade che il ragazzo il ragazzo è sempre normale siccome ha avuto un'insufficienza o lo ha irritato un docente dice di cosa sto a fare qui prende e esce allora siccome poi facciamo il consiglio di classe straordinario facciamo un intervento disciplinare e contattiamo la famiglia però diciamo che i capelli bianchi mi sono derivati da quello soprattutto perché sostanzialmente e lo so che uno potrebbe dire ma se tu hai una scuola di 1400 studenti e 150 docenti per quanto in Italia sembra delle prigioni quindi con tutte le varie cancellate tuttavia l'uscita soprattutto l'uscita il ragazzo può benissimo aspettare che entri un docente che entri un genitore e esca e allora dici come faccio assicurare il 100% posso fare il possibile però invertendo di solito dico benissimo questo è il punto di vista nostro dal punto di vista della famiglia dice scusa un secondo ma dalla tua scuola possono entrare e uscire quando diavolo vogliono allora se non accade niente un conto se appena è uscito viene arrotato da un tir ho idea che mi portano le arance o a me e all'insegnante in galera o qualcosa del genere temo temo che non abbia torto ricordate due anni fa il progetto dei tornelli in Friuli nemmeno troppo lontano qual era l'idea? questa era mettere un freno a questa ipotesi cioè nel momento in cui ma è come dire è una ricaduta dello stesso timore qual è l'unico modo per avere coscienza in ogni momento di quanti siamo a scuola? quello in effetti tutto sommato mi pare il Kennedy il Kennedy di Pordenone fu la scuola pilota di questo tipo di progetto tanti soldoni presi per per iniziare poi devo ammettere non so che fine abbia fatto però l'idea era questa cioè con uno strumento di questo tipo sono in grado di prevenire un problema di questa categoria perché caspita ho un numero se il numero cala qualcosa è successo qualcuno lo abbiamo perso diversamente se no non ci sono limiti all'obbligo di vigilanza è possibile anzi non è impossibile che una buona difesa di questi casi vada ad identificare una una mancanza di responsabilità perché non potevo fare diversamente però il problema di fondo è l'onere della prova che appunto è rovesciato cioè non siamo sotto il tiro di un genitore che prova che il danno è avvenuto siamo noi che ci dobbiamo e dimostrare che abbiamo fatto tutto il possibile quando poi il ragazzo è uscito io lo trovo molto difficile ma prima in logica che in diritto voglio dire è un problema che non ho idea di come ma come me credo credo altri insomma è un problema vecchio questo che non trova una soluzione prego ma infatti io ero venuto a parlare di riservatezza nel pensiero di farvi dormire i sonni più tranquilli possibili poi capita spesso e capita in tutta Italia bene o male con i docenti si frana sulla vigilanza è inevitabile con le segreterie si frana sugli appalti con i docenti si frana sulla vigilanza niente di male prego non poco allora devo chiedere il collega sulle assicurazioni allora il mondo delle assicurazioni scolastiche è devo ammettere anzi delle assicurazioni che si interessano del personale della scuola è abbastanza contenuto nel senso che c'è un numero di operatori molto basso l'assicurazione per responsabilità civile per i dipendenti in realtà c'è già cioè la scuola stipula un contratto che va ad assicurare malgrado quello che si pensi spesso si dice che il soggetto assicurato dall'assicurazione della scuola sono i ragazzi che se si fanno male sbagliato il soggetto assicurato è la scuola la scuola si assicura per i danni che anche il proprio personale o i ragazzi o i ragazzi fra di loro o i ragazzi a terzi o il personale a terzi possano causare quindi in effetti una pollizza c'è già poi invece uno può decidere di assicurare l'ultimo aspetto cioè non il primo giudizio quello in cui vediamo se il ministero proiettato nella scuola ha mancato ma l'ultimo quello in cui un'ipotesi di responsabilità erariale addebitata al singolo possa essere sollevata la risposta alla sua domanda è parecchio cioè quanto ci può aiutare a dormire tranquilli parecchio però devo ammettere che il mercato è abbastanza ristretto proprio perché come noi abbiamo appena detto non è facile essere esenti da responsabilità e questo lo sa anche l'assicuratore che come non assicura volentieri un chirurgo plastico per intenderci nemmeno assicura troppo volentieri un docente vedete che parallelo disgraziato ci tocca fare per tentare di arrivare ad una definizione della vicenda guardi onestamente onestamente la statistica dice il contrario nel senso che i giudizi penali con una sanzione reclusiva carico del personale della scuola sono numero statistico ridicoli vi parla uno degli avvocati dell'ex rettore del convito dell'Aquila che è uno dei poveri disgraziati che si è fatto qualche mese di carcere per fatti disastrosi che senz'altro conoscete dove abbiamo avuto cinque vittime non voglio dire che insomma comparati o claudicat però ecco insomma difficile che il problema sia quello e mi creda le parlo come fossimo al bar non è del penale che si deve preoccupare il problema civile è molto più serio perché condanne di quel tipo rischiano di vedere compromessa in eterno la capacità reddituale e essendo dipendenti pubblici come dire l'appiglio per i pignoramenti c'è sempre però caspita io ero venuto a parlare di cose tutto sommato leggere per cui ma non grazie 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 grazie